Amici di Cusano Italia TV, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Crimini e Criminologia, anticipiamo subito, puntata speciale, esclusiva, dedicata a quanto avvenne 40 anni fa, la scomparsa di Mirella Gregori. Era il 7 maggio del 1983 e la regia di Lorenzo Fantini comincia a proporci i titoli di oggi, vedete, la scomparsa di Mirella Gregori, 40 anni di mistero, ne parleremo anche nella chiave di volta, Mirella Gregori, 40 anni dopo e poi approfondiremo ulteriormente nella parte finale per lo spazio Italia in giallo e nero, accomuneremo le due scomparse, Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi che scomparve un mese e mezzo dopo Mirella, il 22 giugno del 1983. Ovviamente come ogni domenica l'appuntamento poi con quello che è l'osservatorio sui crimini di guerra, ci collegheremo con Kiev, con la nostra corrispondente Irina Gulei e vediamo anche come TAG24 oggi ha ricordato in quello che è l'accadde oggi, proprio il 7 maggio 1983, la scomparsa di Mirella Gregori con questa bella foto con Mirella sorridente insieme a papà Paolo. Questo anche l'omaggio del nostro quotidiano online, tag24.it by Unicusano. Detto questo vado a presentare i nostri ospiti, perché puntata esclusiva, sia perché la dedichiamo quasi interamente a Mirella Gregori, anche perché poi grazie alla sorella che è qui in studio, Maria Antonietta Gregori, è un po' una sorta di esclusiva proprio nel giorno della scomparsa. scomparsa. Buonasera Maria Antonietta. Buonasera a te Fabio. Grazie innanzitutto per averci regalato questa autentica esclusiva. Immagino che è difficilissimo andare in onda davanti alle telecamere e microfoni a parlare di Mirella proprio il giorno della scomparsa. È una casualità che è capitata proprio di domenica, mi fa piacere essere venuta qua da te per ricordare Mirella. A noi fa molto piacere averti in studio insieme a Mauro Valentini. Buonasera Mauro. Buonasera Fabio. Buonasera a tutti. Giornalista e scrittore ormai molto noto di Cusano Italia TV, con lui curiamo anche Italia in giallo e nero. Mauro ha scritto un po' di anni fa il libro proprio dedicato a Mirella Gregori. Cronaca di una scomparsa. Poi vedremo anche la copertina del libro. Intanto vado a salutare chi è in collegamento invece da remoto e lo ritroviamo anche lui. Con piacere l'avvocato Nicodemo Gentile. Buonasera. Buonasera, buonasera ad Antonietta, Mauro e grazie per l'invito. E ricordo ovviamente legale della famiglia Gregori sta seguendo il caso anche e soprattutto nella veste di presidente di quella che è Penelope Italia. E parleremo anche come abbiamo fatto la volta scorsa per il discorso legato alla scomparsa di Maria Kindamo, parleremo anche di Penelope. Però io direi anche per ricordare ai telespettatori il caso, ma prima di vedere la scheda ricordo anche che voi che ci seguite da casa potete naturalmente scriverci, interagire con noi, inviare messaggi, domande per i nostri ospiti, soprattutto immagino per Maria Antonietta. Vedete il numero in sovraimpressione? SMS o Whatsapp al 334 92 29 505. Adesso andiamo a vedere il servizio copertina con la firma di Aurora e il montaggio di Daniele Loda. Roma, 1983. Mirella Gregori vive con i genitori in zona nomentana, ha 15 anni e frequenta un istituto tecnico. È descritta da tutti come una ragazza normale, tranquilla e dedita allo studio. Mamma, scendo, torno tra poco. Le sue ultime parole. È il 7 maggio, un tiepido sabato che prepara la capitale all'estate. Mirella è a casa, qualcuno citofona, la 15 anni risponde. Un certo Alessandro dall'altra parte della cornetta. La ragazza esce, dice alla madre di avere un appuntamento con un compagno di classe a portapia, nello specifico vicino al monumento al bersagliere. Sono le tre di pomeriggio. Mirella non farà più ritorno. A nulla servono le disperate ricerche di familiari e amici del fidanzato che controlla in tutti gli ospedali. L'amico, con cui avrebbe dovuto vedersi, ascoltato poi dagli inquirenti, dichiarerà che quel pomeriggio era impegnato altrove. La madre indirizzerà inizialmente i sospetti verso un uomo della gendarmeria vaticana, Raul Bonarelli, ma nel 1997 un procedimento della magistratura non porta a nulla e nel 2007 il fascicolo contro ignoti per sequestro di persona viene archiviato. Per settimane la scomparsa della giovane Gregori è passata quasi in sordina sui giornali, fino a quando, un mese e mezzo dopo, la sua vicenda si intreccia con quella di una cittadina vaticana, Emanuela Orlandi. Le due ragazze non si conoscevano, ma i due casi sono sempre stati considerati figli della stessa matrice. Forse troppo, e di certo, a scapito di Mirella. Spesso considerata solo un appendice di Emanuela, come amaramente sottolineato dalla sorella Maria Antonietta. Maria Antonietta Gregori l'anno scorso, quando parlammo, come facciamo spesso a Crimini e Criminologia e anche a Radio Cusano Campus, proprio della scomparsa. Come diceva prima Maria Antonietta, che è in studio anche quest'anno, c'è questa incredibile coincidenza la domenica e ci permette di andare in onda e di parlare di Mirella Gregori proprio il giorno stesso della sua scomparsa, 40 anni dopo. Sono già passati 40 anni. Ecco, io vorrei però, perché poi molte volte si parla delle piste, ovviamente, poi ne parleremo, avremo modo. Vorrei soprattutto raccontare Mirella, dalla sorella. Proprio 40 anni dopo, Mirella Gregori. Che ragazza era? Fabio, tu pensa che sono praticamente sei ore che mia sorella di 40 anni fa è scomparsa, è scesa e in queste ore noi stavamo cercando mia sorella intorno vicino casa, negli ospedali e abbiamo stato tutta la notte a cercarla. Mirella era e è una ragazza semplice, una quindicenne di 40 anni fa senza pensieri strani per la testa, perché a volte c'è stato anche detto e insinuato che fosse incappata in qualche brutto giro, perché magari aveva conosciuto qualcuno, la droga, eccetera. Però non aveva questi problemi Mirella. Una ragazza serena, andava a scuola alle superiori e molto attaccata a mamma e papà. I miei ci hanno avuto in tarda età, quindi per loro eravamo dei gioiellini da portare con orgoglio. Poi si vede anche nelle foto una famiglia unita. Una famiglia normale, normalissima. Una ragazza che gli piaceva ballare, gli piaceva andare al cinema, gli piaceva stare con gli amici e simpatica, perché era quello che era il caro trainante degli amici. Se tu senti adesso, tutt'oggi, gli amici di allora, la ricordano in questa maniera. Si vede anche sempre sorridente in tutte le foto, un bellissimo sorriso. Ecco, ricordiamo, chiedo ovviamente all'avvocato Nicodemo Gentile e a Mauro Valentini, ripazientare per gli interventi, che vorrei partire proprio con una sorta di piccola intervista proprio a Maria Antonietta. Hai già ricordato, hai detto sei ore di fa, di 40 anni fa, compariva così, nel nulla, come inghiottita nel nulla, uscita dal portone di casa Mirella. Il ricordo di quella giornata con le ricerche frenetiche, poi questa notizia che è andata a suonare la chitarra a Villa Torlonia con gli amici. Mia madre subito ha sentito che era successo qualcosa, perché dopo due ore mi ha chiamato al lavoro e mi ha detto, tua sorella l'hanno chiamata al citofono, è scesa e non è ancora tornata, è successo qualcosa. Le sue parole sono state in assoluto queste. Gli ho detto mamma, ma te l'hai avrà fatto tardi, non avevamo i cellulari all'epoca, quindi c'erano i gettoni, dovevi andare a cercare i gettoni, ho detto non ti preoccupare, vedrai che torna. Ha detto no, no, è successo qualcosa. La sensazione da madre. La sensazione da mamma aveva ragione. E io da lì sono andata a casa, la prima cosa che ho fatto lo sono andata da mamma, ho cercato di rincuorarla, ma ho deciso nei miei 17 anni, perché ero minorenne anch'io all'epoca, di prendere le retini in mano e insieme agli amici, al mio ragazzo, siamo andati a cercarla dappertutto. Il tuo ragazzo che oggi è tuo marito. Che oggi è mio marito, sì. Lo salutiamo, ci starà seguendo. Poi avremo modo di parlare anche di lui con quella famosa terribile telefonata. Che arrivò. E abbiamo preso la macchina, siamo andati in giro per i pronto soccorti, siamo arrivati addirittura a Ostia, ma la prima cosa che abbiamo fatto è andare dove ci aveva indirizzato la sua amica del cuore, Sonia, che aveva il bar sotto casa. Cioè, lei ha detto, quando la prima cosa che mi ha detto, la frase che poi dopo è stata anche fraintesa, ha detto che non aveva detto così, che Mirella aveva un appuntamento a Porta Pia per andare a suonare la chitarra a Villa Torlonia. La cosa mi è sembrata subito strana perché Mirella non suonava la chitarra e tantomeno aveva amici che suonassero la chitarra. Però noi nonostante tutto abbiamo cercato. Abbiamo cercato lì, ma la villa era chiusa e dopo aver fatto la denuncia al commissariato alle 20, intorno alle 21 siamo andati lì alla villa, però non c'era nessuno. Passò una volante per caso e ci facemmo aprire la villa. Però poi ovviamente era notte. Era notte, i miei 17 anni, camminare in una villa al buio con le torce per cercare eventualmente il corpo di mia sorella è stata una cosa abbastanza forte. Il mio rammarico è che dopo, nei giorni seguenti, nessuno si è preso la briga di dire ok, andiamo a vedere adesso di giorno se si trova qualcosa. Voi l'avete chiesto, immagino. Ovviamente. C'erano anche in fondo alla villa, perché era in restauro, c'erano dei lavori in corso, ma nessuno ha pensato, andiamo a vedere se magari è stato sotterrato un corpo, una cosa è andata a finire male. Questo sono i vari aspetti che fanno riflettere, magari che in un primo momento le stesse forze dell'ordine, hanno subito pensato alla classica fuga. A un allontanamento volontario per una fuga, non si preoccupi, tornerà domani. Lo stesso che poi dissero anche ai familiari di Emanuela Orlandi. Ecco, prima io ho detto che ragazza era Mirella, giustamente Maria Antonietta ha detto che ragazza era è, perché è chiaro, la speranza di ritrovarla viva un giorno, anche se tu hai sempre detto rispetto a Pietro Orlandi, vorrei comunque avere una verità, anche se è la peggiore possibile, però anche per avere eventualmente una tomba su cui piangere. Questo è l'aspetto poi più drammatico del fatto delle persone scomparse. Però ti chiedo, da sorella a pelle, che è successo secondo te a Mirella? Cioè l'idea che ti sei fatto? Qualcosa di brutto sicuramente, a pelle. Adesso il credere in tutto ciò che è stato un bevistaggio, rapita sì, perché lei è scesa convinta di conoscere quello che gli ha citofonato. Tu mi dirai, sarà impossibile prendere una ragazza e buttarla nella macchina in via Nomenetana a portavia, però tramite conoscenze tutto si può fare. E oltretutto, proprio questo è l'aspetto, che lei quando risponde al citofono insiste dicendo se non mi dici chi sei non scendo, quindi evidentemente, no? E però chi era dall'altra parte sapeva che lei aveva questo amichetto che si chiamava Alessandro. Ovviamente, è il punto cruciale di tutta questa vicenda, sta tutto lì il punto. Sentiamo adesso, poi torneremo ovviamente con altre domande da Maria Antonietta Gregori, l'avvocato Nicodemo Gentile. Quella che è la sua idea su questa storia da Presidente anche di Penelope Italia e anche alla luce di una commissione parlamentare d'inchiesta su Emanuella Orlandi e Mirella Gregori, quelle che saranno le mosse vostre come legali e lei nello specifico legale della famiglia Gregori? Guarda Fabio, 40 anni sono molti, ma non sono moltissimi per fermarsi. Questo è un dato oggettivo. Maria Antonietta fa parte di quelle donne guerriere mai indomite che la nostra associazione ben conosce e noi ci sentiamo al posto giusto in questo momento, cioè accanto a questa donna che ne rappresenta un'altra che è la mamma e rappresentano insieme una famiglia con il papà. È stata una famiglia devastata come purtroppo succede per tutti gli scomparsi, per un motivo molto semplice perché questa scomparsa rompe nel classico giorno qualunque, quando Antonietta girava col fidanzato, il bar, la routine viene squarciata da un tradimento, è evidente che si tratta di un tradimento. la ragazza che era pulita, trasparente, era una ragazza che è stata attirata in una trappola con evidenza perché nel pieno pomeriggio del 7 di maggio di 40 anni fa, questa ragazza sicuramente è stata caricata su un ciclomotore, su una macchina, sicuramente la persona conosceva questa ragazza. E io sono un fervido accertore del principio metodologico di Occam, il rasoio. Siamo andati in giro dappertutto e venendo dall'esperienza dell'olgiata che voi conoscete benissimo, io ho difeso il filippino, Manuel Winston Reyes nel 2011, poi è evidente che la soluzione più semplice non era stata monitorata con attenzione perché in realtà si trattava come si suol dire del maggiordomo, no? Sì, ricordiamo il delitto della Contessa alberica. Io ho una convinzione, ho letto con interesse tutto ciò che è stato scritto partendo dallo scritto importante del nostro Mauro Valentini che sempre con sagaccia e con grande diciamo… lui entra nelle storie e non le deturpa perché non ci mette il suo, le racconta da freddo ma soprattutto esperto e importante cronista. Ho letto molta roba del fascicolo, mi sono confrontato con Maria Antonietta, ho ascoltato alcune amiche con lunghe chiacchierate telefoniche, l'ex fidanzato, sono andato ad incontrare Giuseppe Caliche e insieme a Sonia l'ultima persona che ha visto Mirella, che è un uomo puro, è un uomo che si vede che soffre ancora, no? Caliche soffre ancora. E io sono convinto di una cosa, che la fine di Mirella è scritta in quelle carte, scritta in quel fascicolo. non so se là dentro c'è il nome di chi ha prelevato Mirella, ma sicuramente ci sono le tracce di chi potrebbe dirci cosa è successo a Mirella. Io di questo ne sono fortemente convinto ormai. E su questo poi, appunto, immagino l'avvocato Nicodemo Gentile e Penelope Italia, Maria Antonietta, si concentreranno. Aggiungiamo, Maria Antonietta, che Mirella sicuramente non è andata con qualcuno di sua spontanea volontà, perché avrebbe sicuramente rititofonato e detto alla mamma dove stava andando. Quindi evidentemente è stata narcotizzata, qualcosa del genere. Quanto meno sarebbe risalita. Quanto meno avrebbe avvertito. Per questo la mamma ha detto subito. Era ingenua, ma non era stupida, nel senso che ha visto qualcuno che non conosceva o che non sarebbe mai andata. Per questo, sicuramente con la forza, questo voglio evidenziare, è stata presa. Mauro Valentini, dopo l'assist che ti ha dato anche l'avvocato Nicodemo Gentile, tu l'hai sempre detto, che le carte parlano per alcuni aspetti. Ci sono dei punti su cui è importante focalizzare l'attenzione? Sì, l'analisi di Nicodemo è perfetta, la faccio mia. Dentro quelle carte, secondo me, c'è anche il nome, aggiungo, di quello che ha fatto del male a Mirella. Bisognerebbe rileggerle con attenzione diversa e la Procura di Roma dovrebbe prendere a cuore questa storia perché ha un debito nei confronti di Antonietta e nei confronti dei genitori di Mirella. Il debito di non averli ascoltati 40 anni fa perché questa famiglia non è stata ascoltata e nella semplicità di quell'evento, purtroppo drammatico, di un delitto sicuramente avvenuto di vicinanza per conoscenza, non c'è l'uomo nero che passa e porta via, non è possibile che sia accaduto questo. Ci sono troppe circostanze che ci portano a dire che dentro l'agendina con i numeri di telefono di Mirella c'è il nome del colpevole. Questa circostanza della citofonata, della conoscenza della citofonata, il nome che vola all'interno della casa, che cammina dentro le mura di casa Gregori è uno. Allora da quel nome bisognava partire, da quel nome non si è partito. 40 anni fa si mettessero una mano sulla coscienza e aprissero di nuovo un fascicolo, ma un fascicolo vero e solo su Mirella Gregori. Perché la cosa più triste, la tristezza più grande che ho provato quando mi sono avvicinato insieme ad Antonietta a questa storia ormai cinque anni fa è stato quello di vedere e di rendermi conto che i fascicoli avevano due nomi sopra. E di quei due nomi uno occupava il 99,5% dello studio, delle indagini che sono state fatte e poi a margine c'era Mirella. In maniera veramente miope, assurda, se ci ripensiamo adesso, 40 anni dopo, si è pensato che cercando Emanuela Orlandi in qualche modo avremmo trovato la soluzione di Mirella che invece era scomparsa 45 giorni prima, per 45 giorni, anzi, scusami, per tre mesi nessuno se ne è proprio occupato e poi dopo tre mesi qualcuno, qualche scellerato che comincia a scrivere e a depistare, a raccontare storie che sono così assurde, che è incredibile che ci abbiamo creduto 40 anni fa e ci abbiamo creduto ancora adesso e ancora adesso c'è qualcuno che ci crede. Ebbene, davanti a quei depistaggi veramente puerili e posticci, noi abbiamo agganciato la storia di Mirella a quella di Emanuela e di fatto l'abbiamo condannata all'oblio. A proposito ho fatto riferimento all'agentina di Mirella, io volevo chiedere a Maria Antonietta se ha avuto modo di leggere i diari di Mirella, però nel backstage mi dicevi che Mirella era solare in tutto, l'hai detto anche qui. Ma i diari ingenui delle scuole. Che si aveva appuntato qualcosa che magari può aiutare, no? Ma sicuramente gli appunti che si facevano all'epoca li ho fatti anch'io e quando ti piace qualcuno, vorrei uscire con lui, ma cose tutte semplici, insomma. Quindi li hai letti, però poi questi diari li avete consegnati. Quelli sono i diari di scuola, ma il diario quello proprio segreto, no, non l'ho letto. Però lo avete consegnato? L'abbiamo consegnato all'epoca, sono venuti due persone a prenderli, così mi è stato raccontato da mamma perché io non c'era a casa. Ah, certo, è chiaro che poi in quella prima fase i genitori... Certo, io ripeto, ero minorenne, quindi mamma ha dato questi... Sono entrati in casa dicendo appunto che gli hanno fatto vedere un distintivo, che stavano facendo le ricerche su Mirella e doveva consegnargli tutto ciò che era inerente a lei. E mamma gli ha dato questi due diari. Presumo che uno sia quello di scuola e l'altro sia un diario di quelli segreti che si usavano una volta. Però siete anche andati a richiederli, se non ricordo male. Allora, i diari mi sembra che stavano in procura, però c'è andata talmente tanta gente in procura. Un po' per Emanuela, un po' per Mirella e adesso con l'avvocato dobbiamo cercare di capire dove sono. Infatti è importante quello che ha detto l'avvocato, 40 anni sono tanti, ma nonostante 40 anni ancora qualcosa si può fare per arrivare alla verità. Che ci conforta è che le persone inerenti alla scomparsa di mia sorella, se così fosse, hanno tutti più o meno la stessa età di mia sorella, quindi non sono persone grandi che adesso non ci sono più. Quindi sarebbe più facile, no? Cercare di capire qualcosa. E diciamo, prima Mauro faceva riferimento ovviamente a quel nome, no? Che è stato detto per far scendere Mirella, Alessandro. Però, e tu lo hai fatto capire prima nel ricordare la storia, soprattutto anche Sonia. Alessandro che però in due verbali dice una cosa una volta e dice un'altra cosa nell'altra, nel senso che un verbale ha testimoniato che lui erano tot mesi che non vedeva Mirella e nell'altro invece che erano due anni. E anche lì, come ha detto prima Mauro, ci sono delle cose che non sono state prese in considerazione. L'amica sua del cuore è la Sonia che va al bar sotto e anche lei lì c'è un'altra apertura, chiamiamola così, che non si è stata mai rimarginata. Quello, infatti, è il punto saliente. Poi ci arriveremo per parlare anche del caposcorta di Giovanni Paolo II, Raul Buonarelli, faceva riferimento prima la collega Aurora Vena nel servizio. Ma dobbiamo dare la linea alla regia, a Lorenzo Fantini e a Matteo Lavoro che è alla regia centrale. Poi torniamo col secondo capitolo di Crimini e Criminologia, si aggiungerà a noi anche la nostra opinionista, la dottoressa Barbara Fabbroni, a tra poco. E ben ritrovati da Fabio Camillacci, secondo capitolo di Crimini e Criminologia. Con i nostri ospiti continuiamo a parlare della scomparsa di Mirella Gregori, era proprio il 7 maggio di 40 anni fa, del 1983. 40 anni di mistero. Il nostro titolo in studio, la sorella di Mirella, Maria Antonietta Gregori, il collega, giornalista e scrittore Mauro Valentini, che ha scritto il libro, ricordo, cronaca di una scomparsa su Mirella Gregori. Qui vedete collegato anche l'avvocato Nicodemo Gentile, legale della famiglia Gregori e presidente di Penelope Italia. Si aggiunge al nostro dibattito la nostra opinionista, la dottoressa Barbara Fabbroni, psicoterapeuta e giornalista. Buonasera e bentornata. Buonasera Fabio, un saluto anche ai suoi ospiti. Riparto da lei, perché abbiamo avuto modo in passato di parlare del caso, della scomparsa di Mirella Gregori, però dopo aver sentito la prima parte di trasmissione, come spesso facciamo, le chiedo una prima sensazione, un primo suo pensiero su tutta questa storia. La mia prima sensazione è quella di grande smarrimento e di grande solitudine all'interno di questi 40 anni in cui credo una famiglia abbia cercato disperatamente che cosa sia successo a Mirella e soprattutto perché ancora non hanno le risposte. Poi è chiaro, di fronte a una vicenda di questo genere, di domande e di ipotesi, ne possiamo fare tanti, però è anche vera una cosa, come diceva anche prima il dottor Valentini, questo caso è rimasto molto ai margini, cioè gli è stato dedicato veramente pochissimo tempo. Io che sono una curiosa mi sono messa in giro a cercare, oltre che a leggermi il bellissimo libro del dottor Valentini, ma sostanzialmente c'è stata poca stampa che ha preso a cuore questo caso e questo è un vero peccato. Oggi tra l'altro ho trovato una cosa molto interessante, c'è stato un ingegnere musicista che ha ripreso le vecchie foto sia di Emanuele Orlandi ma anche di Mirella Gregori, addirittura ha rifatto questi denti kit che pare verranno consegnati anche agli inquirenti in cui tra l'altro è stato ricostruito il ragazzo con la frangetta che si aggirava appunto sotto casa ed era stato visto nel momento in cui appunto c'è stata poi la sparizione di Mirella e tutto questo credo che sia una cosa estremamente interessante però credo che oggi a distanza di 40 anni sia doveroso riuscire a trovare quella che è anche una conclusione, un po' una sorta di chiudere un cerchio anche perché vede, come diceva lei prima, i familiari hanno bisogno di avere un luogo, un porto dove una persona se purtroppo Mirella è scomparsa ed è mancata e quindi non è più in vita comunque andare a piangere, anche soltanto portare un fiore però lì si completa il ciclo della vita ma soprattutto si dà come dire un luogo di riposo e si va oltre, si riesce comunque a chiudere un cerchio che è importante perché io immagino la sorella portarsi all'interno del suo vissuto 40 anni di ricerche, 40 anni di assenza 40 anni di mancanze ma soprattutto lei che ancora non era nemmeno maggiorenne portarsi dentro una desolazione di questo genere, sostenere i genitori che come ha detto lei erano abbastanza grandi perché l'hanno avuta in tardetà comunque continuare la vita in questo percorso difficile alla ricerca di un perché, soprattutto di un che cosa è successo quindi questa grande domanda che resta un grande sospeso e ancora c'è tutto da scoprire, tutto da indagare se è vero che sta tutto dentro alle carte, se è vero che in quelle carte è nascosto per così dire la chiusura e soprattutto la risposta a questo grande enigma forse va veramente la pena di andare a rileggersi tutto ma questa volta in maniera puntigliosa a ricercare le persone che all'epoca sono state anche interrogate dagli inquirenti per poter comprendere finalmente che cosa è successo Torno da Maria Antonietta Gregori per chiedere altre cose interessanti che potrebbero essere interessanti perché poi anche il fatto di aver consegnato sua madre, i diari, a persone si sono qualificate con tanto di distintivo tesserino però ci disse anche Pietro Orlandi quando è scomparsa Emanuela che andarono i servizi segreti a casa loro quindi quando si muovono i servizi segreti c'è qualcosa di losco sotto evidentemente ecco, non lo chiedo anche a tanti ospiti per altri casi in questi anni avete mai ricevuto al di là delle telefonate dell'americano di cui parleremo che rispose a quella telefonata al bar di via Volturno Filippo, tuo marito telefonate, minacce, lettere o soltanto segnalazioni di mitomani che poi comunque non hanno portato ad altro? beh, nei primi tempi sì, assolutamente sì cioè Galli solo queste cose? minacce nessuna? no, minacce no, nessuna ma persone che dicevano che sapevano dove stava Mirella sotto compensa avrebbero detto dove lettere che ipotizzavano che fosse da quella parte allora tutti andavano a vedere lì se Mirella stava lì è normale che un familiare e gli inquirenti se arriva qualcosa non possono lasciare nulla di intentato però non ha dato di fatto niente no, minacce assolutamente no soltanto questo nella prima fase sono passati 40 anni, no? sì o recentemente è successo qualcosa? altre segnalazioni? praticamente si è chiusa la storia così e l'ha lasciata morire così Mirella è sempre stata l'appendice di Emanuela purtroppo come diceva la frase che mio padre ha sempre detto era Mirella è una cittadina di serie B purtroppo una scomparsa di serie B una cittadina è una scomparsa di serie B perché Emanuela cittadina vaticana aveva più risalto aveva più a livello anche televisivo e giornalistico quando mi chiedono a me a volte mi chiedono perché si parla tanto di Emanuela Orlanti perché è la prima e unica cittadina a tutt'oggi a me me lo dicono ancora mi dicono ma perché non si parla di Mirella? torno dall'avvocato Nicodemo Gentile perché come ricordavo prima poi nell'ultima parte di trasmissione quando inevitabilmente accomuneremo i due casi con anche Michelle Maritato che si collegherà con la dottoressa Barbara Fabbroni parleremo anche di questa novità importante la commissione parlamentare d'inchiesta volevo sentire l'avvocato su questo è un passo molto importante questo per la prima volta però non solo su Emanuela Orlandi ma anche Mirella Gregori però continuano a procedere a braccetto le due storie però un suo pensiero sulla commissione parlamentare la commissione parlamentare e ci auguriamo che venga dal Senato dato il semaforo verde a questa commissione potrà con poteri estremamente penetranti risentire, rifare tutto il percorso noi ce l'auguriamo di cuore perché adesso ci sono nuove consapevolezze sicuramente se si riesce a rimettere diciamo mani sulle carte questa volta anche con la presenza nostra di Penelope questo mi sento di poterlo dire Mirella non sarà la pendice di nessuna Mirella aveva 15 anni e Mirella merita sicuramente quella centralità di indagine mirata benvengano le piste che portano poi a un sviluppo parallelo di due scomparse quella della Mirella e quella dell'Emanuela Orlandi però nel frattempo bisogna accendere i riflettori su tutta una serie di ombre su tutta una serie di reticenze di retromarce di mezze verità di marce indietro che in lo tempore portarono a dei confronti a delle accuse di reticenza portarono più persone a doversi confrontare tra di loro anche la stessa Maria Antonietta ha dovuto fare dei confronti inevitabilmente significa che già all'inizio c'erano state persone che si sono fatte portatrici di scivoloni dichiarative così noi li chiamiamo ci dobbiamo tornare su questo a prescindere se poi ci sarà anche la vicenda di Emanuela perché abbiamo adesso la consapevolezza di poter recriminare purtroppo in modo doloroso perché Maria Antonietta e la sua famiglia avrebbero evitato ovviamente di chiedere con forza questo fatto perché avrebbero voluto stasera la sorella però noi lo dobbiamo fare ormai non c'è più tempo di farsi contaminare dalla dilatazione mediatica di una storia rispetto a un altro Maria Antonietta ha bisogno di chiudere il cerchio come ne hanno bisogno tutti i familiari degli scomparsi e allora adesso con la nostra presenza da questo momento in poi state pur certi che Mirella avrà la sua centralità su questo non ci piove abbiamo la forza la capacità anche investigativa autonoma di poterci muovere a 360 gradi voglio dire una cosa e poi mi fermo ho salutato con grande e importante favore le parole del procuratore lo voi che sono comparse negli ultimi giorni su testate giornalistiche di livello nazionale molto importanti dove in maniera simbillina non ha detto nulla il procuratore ma venendo da un soggetto istituzionale di questo livello sono da salutare con favore che non si escludono possibilità di riapertura di queste due vicende io me lo auguro che ci sia quest'ulteriore questa ulteriore questa ulteriore sensibilità me lo auguro di cuore e noi ci saremo saremo presenti accanto alle istanze di Antonietta del marito dei figli che sono quei nipoti che non hanno potuto godere di una zia che sarebbe stata sicuramente meravigliosa e lo dobbiamo e lo dobbiamo ad Antonietta è una battaglia che facciamo per tutti i familiari delle persone scomparse e tornando ecco proprio mi ha letto nel pensiero Lorenzo Fantini la foto che adesso ha mostrato la vediamo in primo piano Mirella dove sei e questo è un evento a cui sono particolarmente legato perché il modo appunto di fare da moderatore insieme a Mauro Valentini alla stessa Maria Antonietta Gregori poi venne anche Pietro Orlandi e come avete visto c'è il logo di Radio Cusano Campus questo per dire che forse siamo stati tra i pochi a seguire da un po' di anni la vicenda di Mirella Gregori questo è l'evento del 2019 ma su Wikipedia io nemmeno lo sapevo me l'ha segnalato oggi la collega Aurora Vena viene riportato proprio nel 2018 Maria Antonietta Gregori durante un'intervista all'emittente Radio Cusano Campus dell'Università degli Studi Niccolò Cusano ha invitato chiunque possa dare informazioni sul caso a contribuire affermando di essere in contatto con alcuni studi legali per ottenere una riapertura delle indagini quindi già nel 2018 stavi lavorando ed ora anche per agganciarmi a quello che ha appena detto l'avvocato Nicodemo Gentile perché comunque fino a quel momento era letteralmente dimenticata la storia di Mirella ultimamente qualcosina si è mosso però diciamo che l'Incip ce l'ha dato anche la commissione parlamentare e il fatto dell'apertura però già dal libro di Mauro no io dico la cosa proprio quella forte adesso no no assolutamente diciamo che negli anni passati qualche giornalista si interessava a livello mediatico poi col libro di Mauro che è stato il primo e unico all'epoca a scrivere e interessarsi noi ne parlamo proprio in radio a interessarsi di Mirella perché fino ad allora nessuno aveva scritto libri su Mirella posso dire una cosa i primi incontri che facevamo con il pubblico insieme a Maria Antonietta le persone venivano e non sapevano neanche dell'esistenza di Mirella noi abbiamo fatto veramente un'opera quasi di riqualificazione e di informazione di una scomparsa che era veramente innominata io questa cosa mi colpiva molto perché andavamo a fare gli incontri la gente per la prima volta sembrava quasi accogliere senza sottolineare il fatto che per i primi incontri ti scambiavano per la sorella di Emanuela Orlandi c'è stata una confusione che noi abbiamo cercato in qualche modo veramente facendo una serie di incontri lunghissimi io e Antonietta dal 2018 e il 2019 questo che tu hai fatto vedere era uno dei tantissimi incontri che abbiamo fatto proprio perché volevamo raccontare non tanto la vicenda giudiziaria quanto la vicenda umana perché da tutto quello che sento dai discorsi che ha aperto Barbara e dalla puntualizzazione di Nicodemo riguardo alla famiglia Gregori quello che mi ha sempre colpito dall'inizio da quando ho conosciuto Antonietta ormai più di dieci anni fa è questa sensazione del fatto che li abbiano lasciati soli questa era una famiglia per bene che ha aspettato ha cercato e ha aspettato delle risposte da parte di chi deve per obbligo per istituzione e anche per perché è pagato per questo andare a cercare in una situazione tragica che è evidente che è tragica una madre che dopo due ore è in strada a cercare la figlia è evidente che è successo qualcosa di grave ebbene non si può aspettare non si può demandare non si può rimandargli a casa io immagino la prima notte che cosa sarà stata ma andando a casa dicendo ma non vi preoccupate sarà andata a mangiare una pizza con le amiche sarà una una di quelle una scappatella portare a un livello così basso una azione che doveva essere immediata investigativa veramente mi ha scioccato e io concludo dicendo che forse anzi no forse certamente anche grazie a istituzioni e ad associazioni come Penelope di cui io mi sono ho l'onore di aver fatto parte e comunque di seguire sempre con molta vicinanza e attenzione grazie ad associazioni come queste che adesso c'è un protocollo rispetto alle scomparse che non era quello dell'83 Nicodemo potrà aggiungere in maniera più puntuale e precisa ma adesso le istituzioni non possono comportarsi come si sono comportati con la signora Vittoria quando è andata al commissariato a dire che sua figlia non c'era più poi lo sentiamo su Penelope l'avvocato gentile poi drammi nel dramma ricordiamolo i tuoi genitori poi secondo me non ci sono più non ci sono più anche per questo mia madre si è ammalata per quello anche per questo sia Paolo che Vittoria purtroppo sì perché mia madre prima di morire mi ha detto ti lascia a te questo fardello Mirella come diceva lui è sempre stata considerata l'altra ragazza quando abbiamo fatto le presentazioni dicevano ah sì appena iniziavamo a fare le presentazioni di Mirella capivano che era l'altra ragazza è sempre stata l'altra ragazza questo far capire no? fa capire anche a livello mediatico come non se ne sia mai parlato proprio per una serie poi di eventi ultimamente ho detto anche lo sottolineava Maria Antonietta con la commissione parlamentare d'inchiesta qualcosa diciamo che nella storia della Repubblica hanno portato poco o niente le commissioni purtroppo parlamentari d'inchiesta un po' di mezze verità la di Moro la P2 speriamo che con questa si possa arrivare a qualcosa di concreto volevo sentire però proprio a proposito però per noi è uno spiraglio di luce Fabio però soprattutto per la famiglia Gregori però soprattutto già il fatto che se ne parli e che siano state e che qualcuno sia interessato adesso finalmente io spero che vada avanti è come se fosse un faro comunque acceso che può portare a risultati volevo sentire la dottoressa Fabbroni sullo stato d'animo che può provare una persona come Maria Antonietta rispetto alle precedenti interviste essere qui il 7 maggio proprio il giorno della scomparsa della sorella non è affatto facile e quindi si percepisce un'emozione maggiore e l'ha detto lei stessa è una giornata troppo particolare quindi voglio sentire da psicoterapeuta anche un plauso a tutta la famiglia Gregori chi ha ricevuto questo testimone Maria Antonietta ma anche il marito Filippo come si vive ecco poi soprattutto con una sorella scomparsa che il padre definiva una scomparsa di serie B beh purtroppo vede in questa vicenda ci sono tanti momenti tristi la prima è la svalutazione di questo bisogno di questa famiglia cioè di ritrovare questa figlia Mirella dove sei dove sei finita poi oggi è sicuramente un compleanno tra virgolette estremamente importante ma io credo che la signora dovrebbe vivere questo compleanno e questo momento televisivo e non solo in due maniere diverse da una parte certo c'è il dolore questo grande enigma che ancora l'accompagna e soprattutto questa tra virgolette noi clinici diciamo a volte patate patata bollente che a volte la diamo all'altro perché porti avanti comunque un discorso che è stato interrotto purtroppo in questo caso dalla morte di due genitori quindi le dicevo da una parte sicuramente questo grande fartello e questo dolore comunque alla ricerca della verità ma dall'altra parte anche un'apertura finalmente questo bisogno è forse riconosciuto e finalmente si può fare qualcosa affinché la svalutazione che per 40 anni a questo caso è stata data in questo momento abbia una ricuscitura quindi una sorta di viatico nuovo che si può aprire alla ricerca di una verità qualunque questa sia ma che sia la verità di che cosa è successo a Mirella e soprattutto che fine ha fatto una cosa molto interessante che a me ha fatto ragionare il diario che loro non hanno aperto la famiglia non è andata a vedere il diario segreto e questo denota il grande rispetto di una famiglia e soprattutto di due genitori e una sorella e questo dà l'importanza della solidità di questa famiglia dell'etica e della morale però al tempo stesso io credo che in quel diario forse se uno riesce a ritrovarlo qualche cosa può trovare perché vede all'epoca nei diari ed è una sorta di protocollo che io utilizzo spesso anche con i miei pazienti comunque continuare a scrivere perché nel diario si possono annotare tante piccole particolarità che a volte ai genitori o alla sorella stessa non si può raccontare e forse lì ci può essere qualche traccia in più io spero che loro recuperano anche questo diario e in questo momento proprio per questo perché si può si potrebbe trovare qualche indizio utile esatto intrecciando poi tutti quanti i fili di questa indagine ma soprattutto che sia un'indagine solo per Mirella Gregori perché unirla ad altre situazioni fa perdere ulteriormente tempo io credo che questa ragazza che adesso sarebbe stata una donna forse con una famiglia con dei figli ha il diritto ancora oggi di avere comunque una giustizia e sapere che lei esiste esiste per essere Mirella Gregori punto ecco l'ultima parte di questo capitolo la lascio invece all'avvocato Nicodemo Gentile per diciamo riallacciarsi a quanto detto da Mauro Valentini oggi fortunatamente c'è un protocollo diverso quando c'è una persona scomparsa rispetto a quello di 40 anni fa sì c'è un protocollo diverso però anche oggi nonostante l'esistenza dei protocolli spesso assistiamo a dei vulnus importanti nella iniziale messa in campo delle forze dell'intelligence della strategia che vanno a pregiudicare tante poi possibilità di riuscita di ritrovamento della persona o di un perché di una scomparsa una cosa che mi permetto di evidenziare che il nostro progetto attuale è quello di una azione che non sia solo demolitiva perché è evidente che se oggi dopo 40 anni parliamo di una scomparsa che non ha avuto nessun tipo di soluzione è perché a monte sicuramente come spesso avviene anche nei delitti quando si trovano dei cadaveri è evidente che ci sono state delle imperfezioni la nostra vuole essere anche costruttiva cioè dare degli impulsi nuovi perché è evidente che se noi arriviamo là con la penna rossa dicendo non è stato fatto questo non è stato fatto quell'altro dopo 40 anni muovendogli poi su degli elementi probatori che sono soprattutto di natura dichiarativa perché purtroppo negli anni 80 non c'erano i cellulari non c'erano i tracciati dei tabulati non c'erano i gps purtroppo ci muoviamo solo sulle dichiarazioni voi dovete pensare una cosa che quel telefono del bar della famiglia Gregori venne messo sotto intercettazione solo a partire da una certa data e quella telefonata che è fondamentale che parla addirittura della marca degli abiti della nostra Mirella non è stata intercettata noi non ce l'abbiamo abbiamo soltanto il ricordo di chi dall'altra parte della cornetta ha dovuto registrare questa chiamata che ha raggelato il sangue della famiglia perché forse quella nella storia sia di Mirella Gregori che di Manuela Orlandi è la telefonata più concreta che ci sia stata quella che di più ti fa pensare a qualcuno che in ogni caso ha acquisito forse anche di secondo o di terza mano delle notizie che si avvicinano ad una realtà perché poi in questo diciamo girandola di comunicati di telefonate di lettere anonime in realtà nessuno è riuscito mai a dare dimostrazione sia pure indiretta dell'esistenza in vita di queste due ragazze tranne questa telefonata che purtroppo per una imperfezione di indagini non è stata intercettata e poi solo successivamente si sono operate delle attività di captazione ma che poi non hanno avuto nessun tipo di rilievo da un punto di vista dell'indagine e questo ha fatto bene a dirlo perché poi l'ultima parte la dedichiamo a tutte queste tracce che ci sono state soprattutto però nella fase iniziale perché poi la famosa telefonata a cui fa riferimento è quella che prese Filippo al bar solo dopo venne messo sotto controllo subito quindi non esiste questa per capire poi che parlato anche in quel caso che potesse essere l'americano famoso che chiamava però è una cosa che fa veramente gelare il sangue e a voi subito l'ha fatto gelare perché indica con troppa precisione gli abiti quindi evidentemente era qualcuno che aveva in mano Mirella assolutamente sì o quantomeno i vestiti di Mirella perché quando abbiamo fatto la denuncia noi la sera stessa non abbiamo indicato le marche degli indumenti mentre lì nella telefonata ci viene citato tutte le marche degli indumenti addirittura che colpirono le scarpe che aveva diventato insieme le scarpe è l'intimo è l'intimo anche ripartiamo da qui anche per tornare sugli identikit su strani figuri che sua madre vide al giorno del restauro del bar ci sono tanti aspetti Raul Bonarelli avete visto una bellissima foto di Mirella con Papa Wittiva poi parleremo anche di questo restate con noi torniamo subito e ben ritrovati da Fabio Camillacci terzo capitolo di Crimini e Criminologia continuiamo a parlare anche se poi un po' tutta la trasmissione oggi roterà attorno ai 40 anni della scomparsa di Mirella Gregori 7 maggio 1983 sempre Maria Antonietta Gregori la sorella di Mirella Mauro Valentini in collegamento vi vedete l'avvocato Nicodemo Gentile legale della famiglia Gregori presidente di Penelope Italia e la psicoterapeuta e giornalista Barbara Fabbroni questa parte finale con Maria Antonietta Gregori presente poi noi continueremo a parlarne ecco la dedichiamo a quelle poche cose che ci furono nell'immediatezza soprattutto quando i due casi cominciarono a viaggiare parallelamente quello di Emanuela Orlandi e quello di Mirella Gregori all'inizio in qualche modo questo fatto che viaggiassero in parallelo aiutò perché cominciò ad avere una rilevanza mediatica visibilità anche Mirella invece poi alla fine sono due casi che vanno considerati slegati assolutamente secondo noi adesso con tutto quello che è uscito fuori sì all'inizio pensavate sì perché c'erano tutti quei messaggi le telefonate è normale anzi i miei genitori erano l'appello del Papa che nomina la tua sorella prima sono arrivate le telefonate sono arrivate i messaggi l'avvocato internazionale che si occupava di tutte e due le famiglie quindi l'interesse l'avvocato egidio egidio che un interesse vivo no? vedevamo che c'era qualcuno che si occupava dopo tre mesi quattro mesi di silenzio c'era qualcuno che parlava di mia sorella e quando abbiamo sentito l'appello del Papa lì c'è abbiamo pensato è qualcosa di molto molto grande ecco ci commenti questa foto che è importante evidenziarla prima avete visto anche nelle immagini della Guardia Svizzera che c'è riferimento al Vaticano perché le due storie sono andate in parallelo per un bel periodo e il famoso annuncio l'appello che ricordava Mauro Valentini quando poi Papa Wuitiwa disse Mirella Gregory da Castel Gandolfo lo fece sì perché era era la residenza estiva del Papa vediamo nuovamente quella foto con Carol Wuitiwa perché poi molta stampa ecco vedendola così ce lo descrive Maria Antonietta cos'è questo incontro la vedete lì Mirella questa è un'udienza papale che ci ha regalato proprio sì un'udienza papale che ci fu dicembre del quattro mesi cinque mesi prima della scomparsa di Mirella e è tornata a casa che era sicuramente raggiante perché come potete vedere sulla foto era proprio vicino al Papa gli ha preso le mani il sorriso solare era contenta proprio e questa foto pare che sia stata attaccata un mese nella bacheca dell'osservatore romano ecco questa invece già nel dettaglio sembra più che si guardino il Papa e Mirella no? stringendo molti hanno romanzato attorno a questa storia e invece è bene far capire no? quello che era quello che era è il contesto ben diverso qualcuno ipotizzò appunto che Mirella fosse stata scelta proprio in quella bacheca scelta da chi? ecco e questo non si sa anche perché poi venne allacciato al discorso Raul Bonarelli sul tizio che mia madre riconobbe parlare e qui torniamo a un altro punto importante con Mirella e la sua amica capo scorta del Papa perché nel dicembre dell'85 venne nella nostra parrocchia sulla Lomentana e papà e mamma furono ricevuti dal Papa un'emozione grandissima perché potevano parlarci a tu per tu sperando che lui potesse fare qualcosa anche perché c'era stato l'appello precedentemente e proprio mentre l'aspettavano lì mamma scorse quest'uomo che gli sembrava lo stesso che parlava qualche volta con Mirella e l'amica sua del bar questo era il Bonarelli era convintissima tua madre sì sì assolutamente sì otto anni dopo venne chiamata per fare il confronto però lì già stava male e mia madre non riconobbe la persona quando ci fu il confronto poi purtroppo non sono entrata perché hanno fatto il confronto all'americana e questo però è un punto importante perché tu hai sempre detto però tua madre non ti convinceva tanto no all'uscita quando gli ho chiesto beh mamma come è andata ha detto no no mi sa che non era lui il mi sa che non era lui a me mi ha lasciato un vuoto come se l'avessero detto non lo riconosca sì che c'è stato qualcosa che ha fatto sì gli ha fatto cambiare idea è questo punto importante e lì c'è una dedica la vediamo no in questa foto che abbiamo visto fatta direttamente dal papa ai miei genitori proprio nell'85 successivamente perché mamma gli portò questa foto questa foto adesso hai tu sì che appunto ci hai regalato ci hai dato la possibilità di mostrarla con tanto di dedica è importante anche per capire dicevamo questo questo dettaglio Mauro Valentini è fissa la data lì è il 15 dicembre dell'85 è quell'incontro che i genitori di Mirella hanno con il papa e con Raul Buonarelli c'è da dire che i genitori questo insomma Antonietta me lo ha raccontato in maniera molto dettagliata i suoi genitori erano molto fiduciosi sul fatto che il papa potesse in qualche modo essere di conforto proprio da un punto di vista perché ancora eravamo nell'85 già erano passati due anni e mezzo però c'era ancora questa speranza di questa risoluzione legata sempre alla questione del papale vaticana e questo incontro con Raul Buonarelli è molto particolare per un motivo perché Raul Buonarelli nonostante sia stato riconosciuto dalla mamma sembra quasi non preoccuparsi proprio della questione di Mirella Gregori tant'è che viene chiamato otto anni dopo come ha detto Antonietta viene chiamato per un confronto e durante il tragitto in cui lui va verso la dottoressa Maisto che era la tenutaria dell'inchiesta lui ha un colloquio con qualcuno alto in alto grado della gendarmeria vaticana che gli impone di dire che lui che loro come vaticano non hanno niente riguardo ad Emanuela Orlandi quando arriva lì e trova invece non qualcuno che chieda di Emanuela ma qualcuno che chiede di Mirella con la mamma lì davanti esce c'è un'intercettazione che noi abbiamo pubblicato che è in cui lui si sente molto rassicurato del fatto che non dovesse parlare di Emanuela e fa però parlando con la moglie e non pensando di essere intercettato fa dei riferimenti a dei personaggi legati alla parrocchia lì vicino di San Giuseppe al Nomentano che in qualche modo potevano anche dopo secondo me dopo tutti quegli anni poteva essere in qualche modo indagato perché? perché lui fa un riferimento specifico a dei personaggi che ruotano attorno alla parrocchia certo è che un uomo che lavora per il Vaticano probabilmente quell'ambiente lo conosce bene e se lui piacchierando con la moglie indica tra i suoi sospetti per l'altra ragazza non si ricorda neanche come si chiama Mirella quello che dicevamo prima esatto neanche lui se lo ricorda però dice poi secondo me è stato la butta lì però poteva essere come dire non fa un nome fa un riferimento a dei personaggi che ruotano attorno alle parrocchie praticoni bravissimo lui disse i praticoni a Roma io insomma l'ambiente io sono un coetaneo di Antonietta e di Mirella pressa poco sono nel mezzo esatto bene a Roma le parrocchie si frequentavano erano veramente i circoli ricreativi più importanti almeno nel Lazio erano loro l'azione cattolica c'era tutta un associazionismo che faceva molto bene ai giovani devo dire ma il praticone del prete il praticone del prete è qualcuno che sta sempre lì che ruota un po' un po' catechista un po' aiutante un po' chierichetto un po' factot un po' portaborse insomma quanti potevano essere i praticoni del prete della parrocchia perché non si è andato a bussare lì e a chiedere nell'83 chi fossero i praticoni di quel prete ecco quella per esempio poteva essere un'altra pista perché ripeto Mirella sono convinto dalla conoscenza che ho di quello che ha raccontato Antonietta e anche di quello che noi abbiamo letto scritto da mamma Vittoria anche lei aveva un diario che ha lasciato tracce indelebili secondo me di quello che è stato quel periodo lì e quel momento bene Mirella era una ragazza accorta era una ragazza che non dava confidenza nessuno non aveva grilli per la testa per cui o la stretta amicizia oppure un ambiente che nell'83 nessuno poteva sospettare essere pericoloso ecco c'era anche la CR la CR l'azione cattolica romana era ragazzi più grandi che tenevano esatto la scusa l'azione cattolica ragazzi scusa volevo dire però scusa una precisazione non era la giudice ma insomma era la Delerando all'epoca la Delerando la Delerando che si è occupata che ha chiuso poi dopo ho confuso con scusa c'è questo riferimento è un errore ferale Mirella è stata scelta quella foto è stata che abbiamo visto prima hai detto che era stata esposta lì un mese ecco questo avvocato questa pista che adesso ha sollevato ha ricordato Mauro Valentini attualmente sarebbe praticabile per cercare di risalire a qualcosa lei che ne pensa lei che ne pensa può essere una pista questa allora a proposito di costruire un percorso perché al di là della dilatazione mediatica quando si parla di riapertura delle indagini appunto vanno indicate nuove piste nuovi percorsi praticabili perché altrimenti rimaniamo nella fase di esplorare situazioni che dopo 40 anni con grossa difficoltà non avendo anche neanche il supporto della tecnica della tecnologia dell'informatica perché allora non c'erano i tablet non c'erano gli android e quindi capite quanto è difficile allora questa pista della gendarmeria che nasce nell'85 presenta un po' di anomalie questo sì che potrebbe essere un elemento anche di spunto e di indagine da parte della costituenza speriamolo presto commissione ricordiamola che dovrebbe essere una commissione bicamerale con un numero importante di soggetti perché verrà alimentata da entrambi le camere questo è molto importante quali sono le anomalie uno l'ha detta già Mauro non si capisce perché uno spunto dato dalla famiglia Gregori nell'85 viene poi battuto nel 93 questo sinceramente è un qualcosa qualcuno lo dovrà anche spiegare c'era nelle carte perché la mamma è andata subito dopo con l'incontro alla parrocchia del dicembre 85 tramite l'avvocato Egirio c'è stato tutto un percorso è arrivato comunque questo nome seconda cosa fondamentale non bisogna dimenticarla è quello che dicevate voi il discorso dei praticoni domanda importante e necessità di capire perché di una intercettazione è stata praticamente utilizzata soltanto la prima parte e non la seconda parte che era fondamentale cioè quello spunto che dice Mauro non è stato mai oggetto di approfondimento non si capisce il motivo anche perché purtroppo noi abbiamo una casistica che spesso ci fanno ridire ma purtroppo negli ambienti della Chiesa di cose ne sono successe e noi di Penelope le conosciamo basta pensare alla Claps basta pensare per escludere le due vicende di cui stiamo ragionando e poi cosa fondamentale cosa fondamentale di questa pista è che poi si è scoperto che questo signore viveva in una via molto vicina al bar questo è importante non voglio dimenticarlo e questo va collegato in modo forte fortissimo con quell'ulteriore elemento che non è stato mai chiarito di un possibile uomo definito degli aperitivi di un soggetto che comunque la stessa mamma di Mirella ha sempre detto che c'era una persona con le quali la ragazza ma la stessa forse Sonia si è mai intrattenuta quindi bisogna capire questo Buonarelli perché è stata solo mamma Vittoria a doverlo fare il confronto ma altre persone per capire se era una che frequentava o meno quella zona quel bar il ristorante della famiglia di Sonia questa persona l'ha vista soltanto mamma Vittoria che tra l'altro non è stato mai un'attenzione dicendo una foto o qualcosa ricordiamo che intorno a Mirella detto da bocche che non hanno interessi a depistare giravano personaggi strani qualcuno è stato visto dalla stessa mamma di Antonietta il giorno precedente alla scomparsa il giorno dell'inaugurazione si parla di qualcuno che seguiva 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 Mirella tant'è che sono arrivati gli identikit di un signore che spesso gravitava nel bar e con le quali le ragazze si sono anche intrattenute quindi è importante visto che questo signore abitava in una via molto vicina al bar che gestiscono la famiglia Gregori è molto vero questo dottoressa Fabroni le chiedo un minuto per una sua chiosa come ti piace fare poi ci rivediamo alle 23 per Italia in giallo e nero dove parleremo posso aggiungere una cosa prima prima di sentire la dottoressa c'è anche l'altra intercettazione al bar che non è stata presa in considerazione quella quella della l'amica Sonia che parla con una commessa e dice lui conosceva noi ma noi non conoscevamo lui come ha preso Mirella poteva prendere anche me infatti è una cosa importante anche questa e neanche questa è stata presa in considerazione cioè dei punti spunti che potrebbero essere ci sono abbastanza dottoressa Fabroni poi ci rivediamo alle 23 tanto una breve chiosa certo credo che di spunti ce ne siano veramente infiniti ne abbiamo ottenuti fuori tanti stasera esatto tu puoi iniziare veramente questa volta un viatico che porti davvero alla luce la verità insomma e la cosa particolare però che ancora una volta si intreccia la chiesa con il praticone e con quella situazione comunque che è vero che negli anni 80 gli adolescenti praticavano veramente la chiesa andavano in chiesa io mi ricordo c'erano le coccinelle i boy scout comunque c'era un centro di aggregazione importante però è una vicenda che a volte si unisce all'altra e poi si separa e mi sembra come ho detto poc'anzi che di elementi ce ne siano veramente tanti a questo punto vale veramente la pena di proseguire in questo percorso e soprattutto che questa volta i riflettori non si spengono ma che venga questo caso tenuto sempre in vita dai giornalisti dalle persone comunque che possono mantenerlo in vita dottoressa Fabroni ci rivediamo alle 23 per Italia in giallo e nero Mirella Gregori Emanuella Orlandi e poi l'osservatorio criminologico di crimine e criminologia a più tardi grazie a dopo grazie buonasera dopo ci aggiungerà anche Michel Meritato che ha più volte consegnato eccellenze italiane a Sottutela a Antonietta Gregori faccio molta fatica mi viene spontaneo a volte tu lo sai chiamarti Mirella e a me c'è un altro aspetto che fa pensare che ci possa essere qualcuno di importante dietro la scomparsa di Mirella perché è vero che è una storia diversa ma il fatto che il Papa e anche l'allora Presidente della Repubblica vi abbiano incontrato fa un po' riflettere francamente perché doveva fare il nome di mia sorella perché il Papa fa il nome di mia sorella che interesse avrebbe avuto però c'è quella con Emanuele Orlandi e il Mirella Gregori però c'è questo che fa riflettere e poi anche la convocazione di Pertini perché dovrà diventare in qualche modo Pertini è stato chiesto ai miei di intercedere per Pertini per la liberazione di H.K visto che stava nelle carceri italiane e mia madre si è prodigata per essere per avere un incontro con Pertini e l'accompagnai sì sì l'accompagnai io e che le disse il Presidente? è stato veramente speciale perché come l'ha vista l'ha abbracciata l'ha abbracciata e gli ha detto signore io farò tutto quello che potrò fare lo farò per portare a casa sua figlia non ti preoccupi e appunto Mauro no? ci sono troppi personaggi importanti sì perché Papa fa il nome di Mirella Gregori come la chiama lui io ho la sensazione che lì ci sia stato a un certo punto una operazione molto grande ma che però poi non ha dato nessun riscontro nel senso che come diceva forse Nicodemo l'unica telefonata vera importante l'unico elemento importante in tutti e due i casi è quella telefonata fatta in quel bar che non è stata registrata e che ha dato delle indicazioni molto serie e molto forti ma tutto quello che è diventato un polverone enorme fatto di tantissime telefonate lettere che ha coinvolto anche il Papa sembra però una operazione straordinariamente efficace di depistaggio quello che mi ha colpito è che tutti sono andati dietro a questo depistaggio nessuno si è fatto venire il dubbio di quelle che in quelle lettere ci fosse il nulla nessuno si è fatto venire il dubbio del fatto che perché chi ha in mano Emanuele Orlandi manda audio come abbiamo sentito che non si capisce se sono film se sono cose storie vere e non manda una foto come facevano le Brigade Rosse con il giornale in modo che è tutto chiaro che è in mano nostra tutto questo gioco mi ha dato giornalisticamente parlando ma anche proprio come cittadino la sensazione che ci sia stato un polverone alzato in maniera enorme e poi attenzione perché noi volutamente alzato noi diamo per scontato che si parte in coppia su Emanuela e Mirella si dà per scontato che si inizi a fare una ricerca su Mirella guarda che Mirella fino al 2 agosto circa quando esce il famoso settimanale panorama con una indagine sulla tratta delle bianche non c'entra proprio nulla ancora alla questione politica e del resto e associa si parla di Emanuela ma in realtà parla di Mirella legandola ad altre scomparse di altre ragazze bene fino a quel 2 agosto dove esce quel giornale quindi poi due giorni dopo arriva quel primo comunicato in cui c'è scritto Mirella Gregori cerchiamo informazioni questo fronte turquesca che non esisteva allora fino a lì nessuno parla nessuno ha parlato di Mirella ma attenzione il 4 agosto è già passato giugno luglio agosto sono passati tre mesi e in una scomparsa di una ragazzina tre mesi sono una quantità un tempo enorme chi ha avuto l'ardire di fare del male quegli infami che hanno fatto del male a Mirella hanno avuto tre mesi per sistemare tutto quando si inizia a parlare di Mirella Gregori chi ha fatto qualche danno l'ha già sistemato e siamo alle conclusioni per quanto riguarda anche questo capitolo vado a salutare l'avvocato Nicodemo Gentile per sentirlo anche lui con una chiosa d'auspicio soprattutto avvocato di quello che si potrà fare L'auspicio è quello di riaprire non solo a livello parlamentare ma anche a livello di procura perché ci sentiamo pronti con un respiro nuovo vogliamo essere protagonisti questa volta sentiamo che è l'ultima chance e la chiosa è proprio questa se ci ridanno l'opportunità di lavorare in modo nuovo su Mirella potremmo fare qualcosa di importante abbiamo capito grazie anche a tutte le persone compreso Mauro in modo greggio che hanno illuminato questa vicenda adesso abbiamo capito quali sono i buchi il vulnus che c'è stato in questi 40 anni vogliamo dare delle indicazioni diverse nuove vogliamo essere noi a provocare un'indagine che accenda il focus su Mirella e rimane su Mirella anche se poi dovrebbero venire fuori dovrebbero venire fuori degli agganchi con la vicenda Orlando lo farà la commissione noi non lo scudiamo a priori ma vogliamo muoverci a 360 gradi grazie grazie a voi ci vediamo presto a crimine e criminologia due minuti rapidamente un saluto a Mauro e un saluto a Maria Antonietta un abbraccio grazie grazie avvocato intanto posso dire una cosa Fabio questo è il più è il più bel regalo che si può fare questa iniezione di positività e di ottimismo di Nicodemo credo che sia il più bel regalo che sia potuto fare a Mirella alla sua memoria e al suo anniversario ecco stavo per ricordare il libro di Mauro Valentini fu il primo scritto su Mirella Gregori ma c'è anche questo nuovo libro Mirella Gregori la ragazza inghiottita dalla terra di Fabio Rossi 40 anni dopo la verità è ancora possibile un bel libro è un libro investigativo Mauro ha avuto l'accuratezza l'accortezza di parlare della mia famiglia dando dei spunti lo stesso per quello che era successo qui è un ex carabiniere che si lo possiamo far vedere anche a favorire le cani ci ha lavorato tre anni si è documentato e tra l'altro è venuto alle nostre presentazioni perché me l'ha detto dopo è stato carino perché mi ha detto comunque io ho scritto questo libro volevo il benestare da te e ho letto il libro e questo è un libro d'inchiesta rispetto rispetto a quello di Mauro 30 secondi ti hanno mandato mi hanno adesso mandato altri messaggi soprattutto solidarietà abbracci da tutti io quello voglio ringraziare tutti perché sento le persone vicine si vede anche su youtube la puntata l'ultima che abbiamo fatto ha avuto un grande successo tanti commenti ma anche di Penelope sai quante persone di Penelope mi scrivono mi mandano messaggi li sento vicino tutti io ringrazio tutti e soprattutto poi chissà parli questo lo diciamo sempre quello sempre sempre chissà parli dopo 40 anni non è mai tardi per dare proprio la pace e la serenità alla famiglia e a Mirella grazie a Maria Antonietta Gregori grazie a te Fabio molto diciamo doppiamente grazie proprio perché sei stata qui emozionata nonostante tutto perché ho sentito il peso però poi nel corso della puntata sei più sciolta rispetto all'inizio di molto tesa ma soprattutto non tanto perché è abituata a stare davanti alle telecamere ma il 7 maggio dell'83 è successo quello che sapete quindi non era facile grazie a Mauro Valentini grazie a te Fabio ci ritroviamo presto noi anche con Italia in giallo e nero linea a Lorenzo Fantini poi c'è la chiave di volta tra poco e ancora anche lì la chiave di volta su Mirella Gregori restate con noi e ben ritrovati un altro capitolo dei crimini e criminologia in cui continuiamo a parlare di Mirella Gregori perché è il momento della chiave di volta e allora vediamo anche il relativo titolo a proposito di quella che oggi è la chiave di volta legata come detto sempre alla scomparsa di Mirella Gregori Mirella Gregori abbiamo cambiato titolo ma siamo sempre lì 40 anni dopo però vi anticipo poi ci collegheremo anche con Kiev per quello che è il consueto osservatorio sui crimini di guerra in Ucraina intanto a proposito di chiave di volta ritroviamo con piacere la dottoressa Antonella Elena Rossi buonasera e bentornata buonasera buonasera Fabio è sempre un piacere stare qui con te grazie grazie dottoressa naturalmente di scomparsi avevamo modo di parlare quando abbiamo parlato di Maria Kindamo a proposito delle persone scomparse però questo è un caso molto molto diverso e direi particolare perché poi alla fine il fatto di essere accomunato la scomparsa di Emanuela Orlandi lo ha fatto un po' oscurato in una prima fase o meglio in una prima fase lo ha messo sotto i riflettori poi lo ha oscurato per molti anni adesso addirittura una commissione bicamerale di inchiesta tra le due ragazze per le due ragazze la sua idea su questa vicenda ma diciamo che come per la vicenda di Emanuela Orlandi questa vicenda è piena di ombre questa ragazza addirittura scende da casa perché qualcuno suona il citofono e scompare nel nulla questa è l'angoscia più grande di tutti i genitori cioè incarna l'angoscia più grande di tutti i genitori di aver sparire nel nulla la propria la propria figlia per cui io credo che su queste due scomparse ci sia un grandissimo legame tra questa scomparsa e quella di Emanuela Orlandi secondo me su quello che ho letto è molto chiaro che queste ragazze in qualche modo siano state legate a dei fatti probabilmente che non potevano essere in qualche modo esposti e non voglio entrare nello specifico però io credo che questi due fatti siano molto molto collegati molto quindi secondo la dottoressa Antonella Elena Rossi contrariamente a quello che poi negli anni ha detto la famiglia di Mirella Gregori e lo ha confermato qui stasera davanti alle nostre telecamere e ai nostri microfoni la sorella Maria Antonietta ha detto chiaramente all'inizio diciamo questo fatto di aver accomunato le due storie ci ha aiutato molto in realtà poi no ma secondo me le due storie non sono collegate però ci sono e lei lo sta confermando comunque dei punti di contatto con la vicenda Orlandi perché ci sono troppi riferimenti e ne abbiamo parlato il capo scorta di Giovanni Paolo II Raul Bonarelli abbiamo fatto vedere anche la foto esclusiva grazie proprio a Antonietta Gregori della visita di Papa Uitiva alla parrocchia di San Giuseppe al Nomentano dove ecco la rivediamo con tanto questa poi autografata con tanto di dedica dallo stesso Papa per la famiglia Gregori il Papa che da Castel Gandolfo fa l'appello per Emanuele Orlandi però ci mette in mezzo anche Mirella Gregori esatto qualcosa li collega questi casi sicuramente dobbiamo capirlo anche perché posso dire cioè queste due ragazze sembrano veramente scomparse nel nulla cioè sembrano veramente inghiottite sì letteralmente esatto anche a me dà questa sensazione la stessa Emanuela esce dal dal Santa Pollinare e sparisce e sparisce cioè sembra che queste ragazze non abbiano lasciato nessuna traccia chi scompare per propria decisione sicuramente qualche traccia la lascia secondo me lo dice a qualche amica poi a 15 anni ci si confida soprattutto in quella generazione perché queste generazioni sono generazioni quelle attuali sono generazioni che lasciano tracce sul telefonino quelle generazioni che era anche la mia è in me generazione erano generazioni che tra virgolette lasciavano tracce con gli amici cioè c'era una comunità amicale qui proprio queste ragazze scompaiono senza dare nessun tipo di motivazione per cui è proprio io credo veramente che ci sia qualcosa di più grande di queste ragazze cioè non c'è stata una scelta nello scomparire assolutamente io ho letto e riletto le storie sia dell'una che dell'altra ma io credo che siano cadute comunque in una rete più grande di loro ecco rete stava per dire rete di pedofilia sì mi sono fermata è chiaro ho letto quasi un inizio di labiale ma è chiaro che poi l'idea è quella perché la stessa Maria Antonietta che è stata qui quando abbiamo mostrato la foto che abbiamo appena visto ha detto quella foto poi fu esposta nella bacheca della parrocchia perché è chiaro la visita del Papa è ovviamente un evento e Mirella è stata scelta attraverso questa foto è stata scelta perché è bella perché è carina perché è solare è inquietante questa cosa che è stata scelta da qualcuno per fare chissà cosa esatto poi guardiamo le due foto delle due ragazze hanno delle assonanze hanno questa freschezza questa chiaramente dei 15 anni dei 15 anni tra l'altro di allora qua le mettiamo proprio a confronto bravo Lorenzo guardo l'impido queste ragazze proprio che sono proprio acqua e sapone purtroppo è tipico della scelta di alcune di alcune reti pedofili nel senso che purtroppo vengono scelte per la loro freschezza e per la loro innocenza insomma è chiaro che è solo una supposizione io non posso però credo all'inizio ti faceva quasi peccato a parlare di questo a fare queste ipotesi almeno io ricordo con tutto lo storico legato sia Emanuele Orlandi che a Mirella Gregori ultimamente soprattutto dopo lo snoganamento della pedofilia nella chiesa questa cosa diciamo è quella un po' più forte no? rispetto a già al fronte turquesce ne abbiamo parlato anche stasera forse soltanto frutto di depistaggi tutte quelle altre storie ecco adesso le anticipo la chiave di Volga ecco io stavo per chiederglielo quindi per cui proprio queste ragazze sono state ripeto sono scomparse nel nulla però spesso e volentieri queste reti purtroppo si nascondono dietro a una facciata lasciamo stare la chiesa ma sto parlando di una facciata proprio per bene no? di uomini che magari sembrano dare una soluzione no? Emanuele Orlandi sembrava che dovesse vendere qualche profumo qualcosa cioè io dico il famoso contatto anche questa è una cosa che torna non ne ho parlato perché loro la escludono tutti la Avon perché sia Emanuele Orlandi che Mirella Gregori avevano avuto diciamo così degli approcci con delle persone che volevano così farle diventare rappresentanti della Avon esatto all'epoca andavano molto questi prodotti no? andava anche molto questa cosa per cui la cosa che io dico è alle ragazze è chiaro che per fortuna adesso c'è il tracciamento del telefonino molto più difficile però ricordiamoci che in Italia scompaiono circa 70.000 persone l'anno e sono soprattutto ragazzi e ragazze per cui mi raccomando questa cosa deve servire veramente a tutti i ragazzi e tutte le ragazze a far sì che non che siano completamente diffidenti ma che stiano molto molto attenti a chi li contatta questa è una cosa fondamentale perché purtroppo adesso c'è una raffinatezza nel contattare i ragazzi attraverso l'internet attraverso il web però come vedete anche 40 anni fa si poteva in qualche modo farli sparire in un attimo per cui mi raccomando cercate di fidarvi poco fidatevi delle persone che conoscete questo è fondamentale e questa è l'importante chiave di volta però a proposito per tornare al discorso azione cattolica chiesa ne parlava prima anche la nostra opinionista Barbara Fabbruni ricordando lei ha detto coetanea praticamente di Mirella Gregori di Emanuele Orlandi come il sottoscritto all'epoca c'era una maggiore partecipazione era chiaro un mondo diverso e quindi c'era una maggiore partecipazione legata alla chiesa l'associazionismo no boy scout cose di questo genere oggi la situazione da questo punto di vista lo chiedo all'esperta psicologa e criminologa è un po' cambiata però mi sembra di poter dire no è cambiata forse una volta erano gli unici punti veri di aggregazione è cambiata adesso purtroppo i punti di aggregazione sono sono i social sono tanti sono tantissimi perché poi hai una scelta infinita nello scegliere con chi ti vuoi aggregare tra virgolette però ripeto ci sono anche molte molto insidie ma per cui bisogna essere sempre molto molto scaltri i punti di aggregazione adesso possono possono essere comunque quegli amicali però una volta appunto perché sono di quella generazione lì erano le grandi compagnie erano i ragazzi della tua età qui invece sono delle ragazze che probabilmente sono state attirate da persone leggermente più grandi o comunque che si sono venduti come persone affidabili cioè è questo il gap secondo me più che lo stare insieme a persone più che l'aggregarsi la raccomandazione è stata con le persone della vostra età è più facile difendersi è infatti quello che dicevamo sicuramente sia Emanuela Orlandi che Mirella Gregori ancora di più nel caso di Mirella Gregori è stata rapita nel vero e proprio senso del termine magari narcotizzata anche perché era appena scesa da casa e se qualcuno l'avesse invitata ad andare come è stato poi raccontato a suonare la chitarra che lei non suonava oltretutto a Villa Torloni avrebbe ricitofonato avvertendo la mamma che sarebbe andata questo ha detto la sorella non era affatto tipa che prendeva che ne andava senza avvertire i genitori non a caso la madre ha subito pensato a una disgrazia ma infatti entrambe le ragazze erano ragazze che si sarebbero allontanate spontaneamente da casa cioè è proprio questa la cosa che mi fa molto molto pensare nell'assonanza delle due cose o si sono allontanate con delle persone che ritenevano persone sicure affidabili e questo è quello che un po' mi viene da dire perché oppure appunto sono state immediatamente narcotizzate erano due ragazze che avevano una vita talmente specchiata e talmente limpida che non potevano avere altro tipo di coercizioni ecco la differenza ancora più marcata Mirella Gregori dicevo proprio perché Mirella scende da casa e va a parlare con questo sedicente Alessandro che è citofona Emanuela già è fuori da casa è in centro quindi magari possono averle detto lei chiamò casa per dire che aveva ricevuto questa proposta dalla Avon che le davano parecchi soldi chiama a casa e quella è l'ultima volta l'ultima traccia di Emanuela Orlandi per questo ho detto è ancora più clamoroso il caso di Mirella Gregori infatti secondo me aveva molto studiato questo caso perché è importante capire la dinamica di questo caso perché purtroppo è stato veramente un caso che è stato un po' lasciatemi passare il termine sottovalutato e anche forse poco in qualche modo scandagliato ed è importante invece perché secondo me ci può dare molte 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 più risposte di quanto noi crediamo grazie per la chiave di volta di oggi alla dottoressa Antonella Elena Rossi ci rivediamo il prossimo appuntamento con la nostra rubrica buona serata Fabio grazie a tutti gli spettatori e grazie grazie ancora alla psicologa e criminologa Antonella Elena Rossi come spesso facciamo in questo capitolo dopo la chiave di volta apriamo l'osservatorio sui crimini di guerra e possiamo vedere anche quello che è il consueto macabro riferimento all'osservatorio sui crimini di guerra in Ucraina e allora andiamo dalla nostra corrispondente Irina Gulei buonasera Irina ben ritrovata buonasera buonasera Fabio buonasera a tutti partiamo da un importante intervento del vostro presidente Zelensky all'AIA tribunale internazionale dell'AIA ricordiamolo che ha già piccato un mandato di cattura per crimini di guerra nei confronti di Vladimir Putin Irina sì mi piacerebbe mi piacerebbe sottolineare proprio le parole di Zelensky sui crimini di guerra proprio perché in questo intervento lui ha dato qualche cifra a proposito dei crimini di guerra allora lui ha detto che si tratta di più di 6.000 crimini di guerra ma si tratta solo di del mese di aprile solo in questo mese in mese di aprile sì mese scorso i russi hanno commesso più di 6.000 crimini di guerra in Ucraina e se pensiamo bene quindi si tratta più di 200 crimini di guerra al giorno e dietro di queste cifre noi abbiamo sempre le vittime noi abbiamo gli ucraini le persone gli ucraini infatti quindi noi possiamo solo immaginare di cosa si tratta sempre si tratta delle persone uccise delle persone stuprate delle persone che soffrano torturate e proprio di quello ha parlato Zelensky in questo intervento da noi adesso la situazione è molto difficile anche con i bombardamenti russi bombardano le nostre città quasi ogni giorno anche con quelle dichiarazioni che noi abbiamo che sono state fatte la settimana scorsa per esempio dal capo del capo di gruppo Wagner che si ritirano da Bakhmut e si tratta lui ha detto che 10 maggio noi lasciamo questa città perché non abbiamo abbastanza abbastanza armi però non fanno e non faranno così adesso questo video che avete visto questo con tantissimi fuochi continuiamo a vedere bombe al fosforo che danno un effetto possiamo usare questa espressione natalizio o di festa questo è l'orrore della bombe al fosforo sì infatti abbiamo già questa situazione è triste difficile questa situazione porta tantissime morte vediamo che questa munizione è proibita dalla convenzione di genevra le munizioni al fosforo non si può usare non si può usare però i russi fanno quello che vogliono vediamo questa città tutta coperta con le munizioni munizioni al fosforo e dietro dietro di quello che vediamo c'è il suono c'è la voce di un militare ucraino che si dice che i militari del suo battaglione sono stati coperti con questi fuochi al fosforo si può sentire quello quindi questo è un video che ha girato proprio lui questo soldato sì questo video e lo stiamo anche sentendo che racconta ovviamente questo video è stato questo video è stato fatto dai nostri militari e mandato a noi e quindi possiamo sentire sullo sfondo i voci e una di queste voci dice che con questi con questo bombardamento al fosforo sono stati cioè è stato coperto il suo battaglione non si sa se sono vivi o non o morti però si può sentire queste parole sullo sfondo e poi volevo anche dire una cosa anche ridicola diciamo noi abbiamo già un senso di umorismo nero con tutta questa guerra con le munizioni al fosforo quando vediamo l'inizio dei cartoni animati di Disney quando c'è questa luce attorno alla torre di Disney noi cioè tutto il mondo vede Disney invece gli ucraini in questa luce vedono le munizioni al fosforo cioè è uno scherzo che da noi è abbastanza diffuso però è molto triste perché noi adesso in queste cose magiche cioè con la luce vediamo la morte cioè le munizioni al fosforo hai fatto bene a dirlo io prima hai sentito ho usato un termine improprio perché vediamo qualcosa di terribile però dà un'idea di fuochi d'artificio di festa di fine anno o atmosfera natalizia e invece quello è l'orrore delle munizioni al fosforo che è un po' come il napalm che veniva utilizzato in Vietnam per far capire effetti terribili abbiamo iniziato a vedere già invece altri aspetti d'orrore a proposito dei tanti razzi che sono stati lanciati no? Allora quel video che avete visto appena avete appena visto è stato fatto proprio nel centro di Kiev si tratta della piazza di indipendenza che si trova proprio nel centro ho fatto anche una delle nostre dirette questa settimana da questa piazza e si vede un drone che ecco che è stato abbattuto meno male che è stato abbattuto questo drone che volava proprio sulla capitale cosa volevo dire con questo questa settimana è stata molto tesa con tutti questi droni che Russia hanno lanciato su di Kiev proprio ogni giorno noi abbiamo le sirene che dicono che i russi lanciano qualcosa su di Kiev si tratta non solo di Kiev perché adesso meno male che sopra Kiev di solito abbattono tutto quello che i russi lanciano però si tratta di solito anche delle altre città di Dnipro Kherson poi Zaporizia Kharkiv e di tanto intanto i russi riescono a colpire qualcosa lì e anche uccidere la gente e allora questa settimana proprio ogni giorno ogni giorno quando andavo a letto sentivo le sirene poi c'erano due note questa settimana quando mi svegliavo dalle esplosioni meno male che questa lavorava sempre lavorava la nostra difesa aerea e riuscivano ad abbattere tutti i droni anche i missili però questa settimana era abbastanza difficile non solo per tutta l'Ucraina ma anche per Kiev perché proprio ogni giorno come ho già detto Fabio i russi lanciavano i missili e i droni su Kiev ecco infatti va anche aggiunto stavo cercando ma non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora per quanto riguarda diciamo l'aspetto diplomazia internazionale trattative o politico però è stata questa che è appena finita una settimana particolarmente importante possiamo dire soprattutto non tanto per la diplomazia internazionale e il loro loro ruolo perché secondo me è importante in quanto si sta cominciando a parlare sempre di più dei crimini di guerra commessi dai russi in questa guerra è anche la tua sensazione sì 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 è così anche con quello che abbiamo fatto vedere con questo intervento di Zelensky poi la settimana scorsa hanno cominciato di creare una commissione una commissione europea che deve arrivare qua in Ucraina per cercare le prove proprio a quello mi riferivo su tutti i temi di guerra sì 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 di questo adesso si parla di più e meno male perché i russi hanno lasciato tantissimi tantissimi tracci dopo di loro purtroppo è così è però importante perché volevo solo aggiungere una cosa scusami volevo aggiungere solo una cosa anche adesso quando proprio nel momento quando parliamo io e te da noi suonano le sirene anche adesso i russi hanno cominciato a lanciare qualcosa su chi suonano le sirene però il collegamento regge perché in genere quando suonavano le sirene si oscurava tutto mancava l'elettricità no prima sì prima sì prima noi abbiamo avuto anche gli orari quando abbiamo avuto la luce poi quando no però adesso cioè questo non non ha a che fare con le sirene sirene suonano c'è l'internet c'è la luce solo nei casi quando i russi colpiscono le nostre linee dell'elettricità solo in questi casi noi possiamo rimanere senza l'elettricità e anche senza l'internet ma non c'è niente a che fare con le sirene ah ecco così hai fatto chiarezza concludo perché siamo al termine anche dell'osservatorio sui crimini di guerra dicendo mi fa molto piacere che si stanno in qualche modo vegliando anche le istituzioni sui crimini di guerra noi è da più di un anno ormai che abbiamo aperto con te questo osservatorio e quindi è importante che se ne accorgano di quello che stanno facendo i russi grazie a Irina Gulei per l'intervento di oggi grazie mille Fabio buona settimana e ci vediamo la domenica prossima sì ci vediamo domenica prossima grazie alla nostra corrispondente da Kiev Irina Gulei linea Lorenzo Fantini poi torniamo per il rush finale Italia in giallo e nero Mirella Gregori ed Emanuele Aurlandi e ben ritrovati da Fabio Camillacci questo l'ultimo il penultimo capitolo ma penultimo e ultimo lo definiamo il nostro rush finale intanto ringrazio tutti coloro che ci hanno scritto e continuano a scriverci al 334 922 9505 soprattutto devo dire quello che mi segnala la redazione perché lo ricordo i messaggi vengono filtrati dalla redazione quando poi ci sono domande per i nostri ospiti e li leggo anche in diretta se invece si tratta solamente di messaggi di solidarietà nei confronti della famiglia di Mirella Gregori perché continueremo anche in questa parte finale a parlarne è chiaro che sono tantissimi e non possiamo leggerli tutti ma ho messo al corrente di questo Maria Antonietta Gregori che è stata qui con noi intanto con Lorenzo Fantini vediamo il titolo di questi ultimi questi ultimi due pazzi perché è ormai un'altra rubrica fissa Italia in giallo e nero e come vedete ora accorpiamo anche noi due casi a proposito delle due scomparse Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi perché poi il 22 giugno prossimo sarà il quarantennale della scomparsa anche di Emanuela Orlandi oggi 7 maggio invece è l'anniversario della scomparsa di Mirella Gregori per questo abbiamo realizzato questa puntata speciale e aggiungo e ribadisco esclusiva perché Maria Antonietta Gregori ha detto sì soltanto a noi e quindi ha declinato anche inviti importanti prestigiosi come quello della Rai o quello di Mediaset perché aveva preso l'impegno con Cusano Italia TV con crimini e criminologia e infatti è stata nostra ospite nei primi tre capitoli poi domani avrete modo di recuperare l'intervista a Maria Antonietta Gregori all'avvocato Nicodemo Gentile che è stato anche lui in collegamento con noi ricordo legale della famiglia Gregori nonché presidente di Penelope Italia in studio Mauro Valentini ha partecipato alla prima parte anche una delle nostre opinioniste la dottoressa Barbara Fabbruni che dovrebbe essere in collegamento nuovamente la nostra psicoterapeuta e giornalista e la ritroviamo eccola qui ben tornata stasera le stiamo facendo fare di straordinari dottoressa ma so che a lei diciamo è molto a cuore questa trasmissione il suo intervento e quindi lo fa con molto piacere assolutamente sì Fabio anzi per me è un onore essere con voi sempre e comunque mi dicono che abbiamo anche l'altro opinionista giornalista e criminologo presidente di Asso Tutela Michel Emi Maritato buonasera Michel buonasera buonasera a voi buonasera a tutti gli ascoltatori Fabio grazie per l'ospedità buonasera dottoressa Fabbruni questa sera vedo che il collegamento pare che vada bene quindi auguriamoci che non ci siano come li definisci tu boicottaggi tecnologici nei tuoi confronti ricordiamo che hai ricevuto anche minacce per quanto hai detto qui in questa trasmissione su Pierpaolo Pasolini quindi come diceva qualcuno pensare male si fa peccato ma spesso ci si indovina quindi magari ti boicottano veramente ma qualcuno di importante no Michel a parte del battito beh assolutamente Fabio ormai sono anni che trattiamo questi casi abbiamo fatto abbiamo avuto nota insomma ogni volta parliamo di alcuni casi importanti come questo di esatto come Davide Cerbia come Manuero Orlandi abbiamo rappresentiamo un problema e quindi abbiamo dei problemi perché purtroppo per fortuna siamo giornalisti o operatori di informazione che fanno informazione vera senza aperitura lingua grazie anche al nostro editore Stefano Bandecchi che ci permette di fare una trasmissione libera e ci permette di fare un'informazione che non risponde alla grandissima prostituzione intellettuale della stampa gettone come la chiamiamo insomma quindi intanto colgo l'occasione di ringraziare l'editore Stefano Bandecchi per la grande opportunità che ci dà a proposito poi di questo spazio con voi due oltre a Italia in giallo e nero che è il nome di una nuova rubrica proprio di crimini e criminologia aggiungiamo e abbiamo anche di questo la foto il titolo osservatorio criminologico che cos'è osservatorio criminologico Michelle? vedete rivista di criminologia scienze forensi diritto e procedura penale assolutamente l'osservatorio criminologico sarà una testata giornalistica ufficialmente registrata presso il tribunale di Roma dove giornalisti di informazione di inchiesta di cronacanere giudiziaria psicologi psicoterapeuti e tecnici del settore come criminologi e criminalisti faranno per approfondire casi importanti come questo di Mirella Gregori come Davide Cerbia Orlandi Massaggio di Erba Ustica insomma tanti altri capitoli importanti della nostra nazione della cronaca giudiziaria della cronaca nera e quindi anzi per questo Fabio ti ringraziamo di averci dato spazio e ti ringraziamo soprattutto di farne parte perché con te insomma abbiamo veramente un grande tocco di cultura di conoscenza e di sapienza soprattutto dal punto di vista storico e dal punto di vista giornalisti quindi grazie veramente di cuore ma è sempre un piacere e visto che la linea regge ne approfitto per farti dire una cosa importante perché è un caso che abbiamo trattato più volte il riferimento è al caso Moro cosa avverrà il 9 maggio prossimo ad Andria è un passo importante non è ricordare il tuo libro La verità compromessa di Sualdo Moro ma sì il libro di Aldo Moro che è il mio libro ma è il libro insomma al quale abbiamo collaborato tutti noi insieme come redazione crimine e criminologia grazie anche alla tua collaborazione a quella di Barbara Fabrone di Martina Paparusso ricordiamo di Giovanni Ricci ricordiamo del criminologo Marrone di Cataluci insomma della Caglioti ricordiamo insomma tante persone e personalità del nostro mondo che hanno partecipato a questo libro e che verrà portato ad Andria il 9 maggio per l'apertura del Festival della Legalità dove aprirà nelle giornate del 9 e del 10 maggio con la presentazione sulla fine tragica di Aldo Moro e di per Paolo Pasolini quindi tutti e due i nostri libri che sono stati ideati discursi elaborati in collaborazione con la redazione di crimine e criminologia sono stati selezionati per l'apertura del Festival della Legalità e proprio ad Andria che è una una città nella vicina maglia la città natale di Aldo Moro verrà presentato il libro che farà da apertura da apripista per questo festival ormai in Boga da tantissimi anni in Italia e lo farà proprio nella terra della Sacra Corona Unita a contestare la criminalità organizzata come facciamo ogni giorno ogni domenica a questa trasmissione quindi Fabio grazie anche perché ancora una volta la crimine e criminologia è stata fondamentale è stata diciamo così la 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 trasmissione che ha dato la possibilità di dare informazioni su questo libro su su Pierpaolo Pasolini su Aldo Moro e di poterlo fare ecco come ancora abbiamo detto prima senza freni senza inibizioni senza rispondere a nessun tipo di stampa organizzata ecco tutto questo veramente grazie veramente a Cusano Italia TV a Cusano Media Group grazie alla trasmissione grazie soprattutto a te che conduce ormai da anni questa pietra fondamentale nella storia della criminalità della criminologia della criminalistica grazie e peraltro ricordiamolo a giugno compierà 30 anni sì 30 anni no ma tre anni crimini e criminologia ha iniziato l'avventura anche se poi era già iniziata come trasmissione al di là della storia oscura su Radio Cusano Campus quella è del 2014 ma le prime puntate erano duravano circa mezz'ora al massimo un'ora di crimini e criminologia cominciano già nel 2019 proprio alle origini di Cusano Italia TV però poi la vera parte dopo la la prima fase terribile della pandemia quindi dopo il lockdown giugno 2020 comincia crimini e criminologia e visto che ora in Italia è giallo e nero come avete peraltro visto dal titolo torniamo a parlare delle scomparse Mirella Gregorio ed Emanuela Orlandi prima di andare a sentire quello che hanno avuto modo di dire ad aprile l'11 aprile sia l'avvocato Laura Sgro che Pietro Orlandi chiedo alla dottoressa Fabroni che prima si è pronunciata si è espressa anche con Maria Antonietta Gregori qui presente Mauro Valentini l'avvocato Nicodemo Gentile lei prima ha parlato esclusivamente del caso di Mirella Gregori ma non le ho chiesto che ne pensa dei due casi se secondo lei è giusto accorparli accomunarli hanno delle cose dei punti di contatto dei punti comuni ma guardi prima nella pausa quando c'era la chiave di volta stavo riflettendo non è che forse il rapimento di Mirella Gregori è stata la prova generale per poi giungere a Emanuele Orlandi e tra l'altro la prova generale è stata fatta in territorio italiano mentre l'altro è stata fatta in territorio vaticano certo è interessante riflessione interessante riflessione perché se lei le mette insieme comunque hanno più o meno la stessa età più o meno la situazione è sempre abbastanza particolare perché la persona dell'Avon sembra che comunque si ritrovi in entrambe le cose il Vaticano comunque c'entra comunque c'entra qualcosa l'ambiente ecclesiastico e comunque l'ambiente della Chiesa per cui i ritrovi che i ragazzi avevano gli adolescenti in quel periodo per cui mi sono fatta questa fantasia nulla di che però è vero che seppur si possono unire possono viaggiare ma sono sempre comunque due binari paralleli e credo che entrambe debbano essere trattate anche come due situazioni separate per poter comunque scendere nelle viscere di questa vicenda e poter portare alla luce comunque quelli che sono le varie situazioni perché è vero possono avere dei punti di congruenza ma sostanzialmente poi alla fine è accaduto che Emanuele Orlandi ha comunque è stata dilagante per certi aspetti se ne è parlato sempre tantissimo se ne è occupata tantissimo la stampa se ne sono occupate le televisioni mentre Mirella Gregori è rimasta nello sfondo per questo ho fatto questa assonanza cioè da una prova generale poi abbiamo avuto il caso più eclatante e sostanzialmente il Papa che le mette insieme e questo Papa che prima va a trovare la famiglia degli Orlandi e poi va a trovare la famiglia dei Gregori cioè una cosa estremamente particolare certo è è un'assonanza vicina più o meno ci sono 40 giorni di scarto di tempo sostanzialmente una è il 7 maggio l'altra è il 22 giugno per cui in un tempo estremamente ristretto due ragazze due quindicenni due ragazze veramente specchiate limpide con tutta la vita davanti a sé con i loro progetti si ritrovano in questa situazione ecco questa è un po' la riflessione che mi è venuta in mente sebbene insomma nella prima parte del programma sono venute fuori anche delle cose sostanziali quindi anche ulteriori piste che rinviano a un percorso della Gregori completamente distaccato da quello dell'Orlandi infatti è stato molto utile questo dibattito che abbiamo realizzato perché tra Valentini lo stesso avvocato Nicodemo Gentile Maria Antonietta Gregori e la dottoressa Fabroni sono emerse cose molto interessanti andiamo adesso a Emanuele Orlandi poi la stessa domanda la rivolgo tra poco a Michelle ma prima vi faccio ascoltare l'11 aprile scorso c'è stato l'atteso incontro con il promotore di giustizia Vaticano Alessandro Diddi prima è stata sentita Laura Sgro insieme a Pietro Orlandi quindi l'avvocato della famiglia Orlandi e poi Pietro Orlandi è invece rimasto da solo molto di più a colloquio con lo stesso Alessandro Diddi sentiamo cosa ebbe modo di dire all'uscita invece da quell'incontro l'avvocato Laura Sgro che aveva lasciato ancora a colloquio Pietro Orlandi vediamo la Sgro io sono venuta qua perché mi ha chiesto anche Pietro di riferirvi che insomma ancora ce n'è per un po' da verbalizzare per cui siamo stati ricevuti dal promotore il promotore ha cominciato la sua attività noi abbiamo depositato una memoria per cui credo che in questo momento sono in fase di approfondimento anche le indicazioni che abbiamo dato noi nella nostra memoria e nella documentazione che abbiamo depositato ripeto presumo perché insomma il promotore sta facendo il suo lavoro per cui Pietro mi ha detto qualche minuto fa che ancora ne avrà per un po' per cui non so neanche se dirvi di aspettare non so che dirvi sicuramente passerà ancora almeno un'oretta un'oretta e mezza passerà quindi sicuramente è un momento importante ecco dopo tanti anni anche dopo le parole insomma che abbiamo letto questa mattina in cui il promotore diceva che il Santo Padre ha dato piena libertà nelle indagini e l'augurio nostro è che finalmente si possa fare luce su questa vicenda è che si possa davvero scrivere una pagina di storia e questo lo dico anche da cittadina perché oggi ho letto dell'intenzione del promotore di volere collaborare con lo Stato italiano e questa è storia sarebbe la prima volta nella storia in cui il Vaticano e l'Italia valendosi del concordato davvero in uno scambio reciproco possono mettere a disposizione l'uno dell'altro gli elementi che hanno a disposizione per Emanuela per questa famiglia e che nonostante siano passati 40 anni comunque nel caso dovesse succedere questo sicuramente non può che essere letto in chiave assolutamente positiva per cui speriamo che la giornata di oggi sia fruttuosa come auguriamo che tutto il lavoro del promotore possa risultare fruttuoso e che questa giornata venga anche presa anche di grande auspicio per il Senato che deve ancora calendarizzare il voto per la commissione d'inchiesta noi siamo fiduciosi che questo possa avvenire entro la fine del mese quindi grazie a voi che siete qua da un pomeriggio intero non so cosa dirvi altro in questo momento grazie ancora Nella memoria ci sono elementi nuovi? Abbiamo raccolto degli elementi da un po' di tempo a questa parte sono frutto di attività difensiva che abbiamo fatto negli ultimi anni e quindi l'abbiamo messa a disposizione del promotore adesso tocca a lui fare le attività adeguate le indagini adeguate e valutare la concretezza e la fondatezza e soprattutto riunire tutti i pesi del puzzle che noi gli abbiamo portato a disposizione questi e poi stamattina leggevamo pure che avrebbe trovato delle carte impolverate questa cosa è bella visto che fino a questo momento il Vaticano ha sempre detto di non avere fascicoli né incartamenti quindi siamo fiduciosi nelle carte impolverate grazie che tipo di indagini potrebbe fare di archivi o di carte o con testimoni sicuramente ha a disposizione degli archivi cui noi non abbiamo avuto mai accesso quindi l'augurio è che effettivamente questi ventilati di dossier di cui si parla da tanti anni di fatto possano avere possono saltare fuori e questo è un fatto e poi come abbiamo detto da tanto tempo noi e come ha detto anche stamattina il promotore leggendo il Corriere di fatto ci sono delle persone ancora vive che possono dare sicuramente il loro contributo quindi anche questo è molto importante certo è vero che lui ha giurisdizione solo in questo fazzoletto di terra è vero ma è esattamente questo il fazzoletto di terra a cui la procura di Roma non è mai riuscita ad accedere attraverso derogatorie quindi se il promotore farà come ci auguriamo al meglio il suo lavoro dentro lo Stato e metterà le sue risultanze a disposizione anche della commissione d'inchiesta io penso che questa volta davvero un passetto avanti verso la verità si possa davvero fare Ottimista l'avvocato Laura Sgro legale della famiglia Orlandi e questo era quello che dichiarò l'11 aprile scorso dopo l'incontro con il promotore di giustizia vaticano Alessandro Diddi poi vi faremo sentire anche quello che ha detto all'uscita da quell'incontro Pietro Orlandi però volevo sentire Michel non so se voleva commentare qualcosa detta da l'avvocato Sgro oppure rispondere alla domanda che avevo già posto alla dottoressa Fabbroni secondo te i due casi sono da accomunare Mirella Gregori e Emanuela Orlandi Tutte e due Fabio vorrei rispondere a tutte e due e per quanto riguarda l'avvocato Laura Sgro le sue parole insomma lasciano trasparire quello che è la richiesta di chiarezza dopo tanti anni di questo caso di questa tormentata vicenda che purtroppo viene coperta in continuazione da qualcosa non si sa da chi non si sa da come possiamo immaginarlo ma non riusciamo ad avere una certezza ecco mi sembra tanto entusiasmo tanta voglia di capire tanta voglia e tanta speranza di arrivare alla conclusione ma di una vicenda che definirla vergognosa è assai poco per quanto mi riguarda anche perché purvero che la procura della Repubblica non è mai riuscita ad arrivare all'interno del Vaticano ma che si decanti tanto la collaborazione tra lo Stato Italiano e lo Stato Vaticano mi sembra una cosa spaventosa nel senso che dovrebbe essere così come tutti gli Stati la cooperazione internazionale la cooperazione fra Stati la cooperazione fra il diritto e il diritto comparato tutto questo mi sembra un'obbietà in un paese in una nazione e un rapporto fra nazioni civili evidentemente qui c'è uno Stato che si sta confrontando con il nostro che è molto meno civile e mi dispiace dover lasciare intendere determinate cose però non si possono lasciare trascorrere 40 anni di silenzi tre papi dove ancora oggi non si è capito cosa è accaduto a questa povera ragazza e oggi probabilmente lo Stato Vaticano decide forse di collaborare e di mettersi a disposizione della procura io veramente rimango senza parole cioè io non rimarrei entusiasmato e contento perché probabilmente forse un piccolo Stato si mette a disposizione della procura di Roma io rimarrei sbalordito e sbigottito perché uno Stato non si è messo prima a disposizione della procura di Roma ecco questo io mi chiederei questo perché se uno Stato non si mette a disposizione di un altro Stato per poter portare una chiarificazione una chiarezza e un chiarimento su quello che è accaduto a Manuela Orlandi e eventualmente a Mirella Gregori io non ho più nulla in cui credere non ho una giustizia in cui credere non ho un diritto in cui credere non ho un'istituzione religiosa un'istituzione civile politica in cui credere cioè rimango basito che soprattutto poi ricordiamo che oggi il capo della procura vaticana è stato il capo della procura di Roma cioè ragazzi io veramente rimango senza parole ad ascoltare tanto entusiasmo per un'ovvietà che dovrebbe essere già chiusa 40 anni fa per me la notizia è che il Vaticano per 40 anni non ha collaborato con lo Stato Italiano non che forse probabilmente questo è molto vero questa è una cosa molto grave molto grave non che forse probabilmente Diddi si metterà a disposizione della procura ma stiamo scherzando? cioè ma di che cosa stiamo parlando? scusatemi e comunque se non lo dè i due casi hanno qualcosa in comune? i due casi hanno qualcosa in comune ricordiamo che nel periodo in cui è sparita Emanuela Orlandi ed è sparita Mirella Gregori ricordiamo che c'era anche il famoso movimento tra virgolette criminale che faceva rapiva le ragazze la tratta delle bianche la famosa tratta delle bianche c'erano tanti scomparsi in quel periodo tante ragazze scomparivano esattamente il traffico di organi quindi Mirella Gregori potrebbe essere come potrebbe non essere legata a Manuela Orlandi una grandissima disgrazia capitata anche alla famiglia Gregori alla quale sono molto legato e saluto in particolar modo ad Antonietta abbiamo anche ricordato i premi le eccellenze il premio eccellenze italiane Asso Tutela che hai avuto modo di consegnare in più occasioni a Maria Antonietta Gregori che è stata nostra ospite però abbiamo un appuntamento tassativo Michel quindi riprendiamo tra poco riprendiamo riprendiamo tra poco da te do la linea Lorenzo Fantini e poi torniamo ben ritrovati da Fabio Camillacci andiamo verso le conclusioni di Crimine e Criminologia di oggi puntata lo ricordo speciale ed esclusiva dedicata a Mirella Gregori alla scomparsa che avvenne proprio il 7 maggio di 40 anni fa ma ovviamente quando si parla di Mirella Gregori non si può non parlare anche di Emanuela Orlandi e quindi Italia in giallo e nero oggi le accomuna con questo titolo scomparse Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi sempre in collegamento la dottoressa Barbara Fabroni psicoterapeuta e giornalista giornalista e criminologo presidente di Asso Tutela Michel mi maritato ero in debito con Michel perché stava completando il suo ragionamento sul fatto che i due casi hanno dei punti in comune sì no dicevo nel periodo insomma in cui è scomparsa Emanuela e scomparsa Mirella purtroppo c'era questa maledetta tra l'altro delle bianche delle quali sono scomparse tantissime persone un fatto è certo non sappiamo certamente se i due fatti sono collegati ma la fortuna nella sfortuna vuole che Mirella sia scomparsa vicino a quest'altra ragazza che era Emanuela Orlandi quindi chiaramente ha avuto la possibilità di poter essere attenzionata in maniera diversa da tante altre persone che sono scomparsa magari lontano da questo periodo di Emanuela Orlandi io personalmente credo che i due casi siano collegati per tanti tanti e tanti punti di vista comuni che possono riguardare comunque la religione che possono riguardare le frequentazioni che possono riguardare comunque anche non solo l'ipotesi che faceva la dottoressa Fabbroni delle prove generali ma anche soprattutto la vista della pedofilia ecco tutto questo mi lascia anche pensare ad una pista probabilmente all'interno di alcuni circuiti alcuni diciamo così luoghi senza fare nomi e senza fare cognomi dove si possano praticare dei rituali esoterici importanti riguardanti certi tipi di massoneria deviata dove in alcuni posti è molto presente e che probabilmente potrebbe essere regata a ritualistica di ragazze vergi questo potrebbe essere tutto e potrebbe essere nulla però chiaramente non è una casualità che a differenza di pochissimi giorni sono state rapite due ragazze così comunemente vicine per tanti tanti aspetti fra cui anche questo e prima la dottoressa Antonella Elena Rossi nella chiave di volta ha sottolineato un altro aspetto importante il fatto di due ragazze molto simili e poi soprattutto il discorso e qui vado dalla dottoressa Fabroni per sentire visto che lei poi si occupa spesso si è occupata molto in passato lo fa ancora oggi di minori forse all'epoca e per parecchi anni era in qualche modo impensabile evidenziare stigmatizzare la pedofilia nella chiesa poi Papa Francesco ha un po' sdoganato tutto questo ecco oggi forse si può restringere il campo rispetto alle piste internazionali l'attentato a Giovanni Paolo II a lì a già dottoressa Fabroni forse ci troviamo di fronte a due casi di pedofilia beh potremmo ipotizzarlo questo ci potrebbe essere tant'è che come diceva prima la collega sono due ragazze acqua e sapone cioè hanno l'idea proprio della vergine della persona illibata che comunque attira sicuramente il profilo del pedofilo questo lo possiamo però soltanto ipotizzare la cosa che chiaramente lascia sdegno è il fatto che per tutti questi anni non è stato fatto niente però io generalmente sono solita guardare il qui ed ora noi il passato non lo possiamo assolutamente cambiare dobbiamo soltanto prendere atto e l'avvocato sgrò quando prima parlava forse questa sua tra virgolette contentezza questo suo entusiasmo era più legato al qui ed ora cioè al fatto che adesso forse qualcosa è possibile finalmente qualcosa si muove esatto cioè nonostante ripeto il passato non si cambia è quello ormai è congelato però se qualcosa si smuove adesso se adesso davvero c'è un dialogo fra l'italia e quello che è lo stato del vaticano forse possiamo andare a sviscerare alcune cose e chissà capire comprendere a ritroso quello che è stato quel passato no? beh lei ci insegna Paolo quando parla di storia no? la storia ci aiuta a comprendere rido perché mi ha chiamato nuovamente Paolo eh è vero è vero era già accaduto in un'altra puntata è vero chissà forse in un'altra vita ci siamo conosciuti il suo nome era Paolo ho detto è uno dei padroni della capitale quindi accetto ben volentieri il nome certo no? quindi questo fatto cioè che comunque i fatti storici riletti nel piedore del presente ci permettono anche di comprendere qualcosa di più e forse ripartendo dall'adesso noi possiamo in questo momento che i nodi si stanno almeno sembra si stiano sbrogliando comunque riuscire a comprendere che cosa è accaduto e soprattutto che fine hanno fatto sia sia Emanuele Orlandi ma anche Mirella Gregori insomma speriamo che questa apertura ci sia di fatto e non sia soltanto un pur parleo o il dare ancora una volta un'illusione che poi si perde diventa una grande disillusione e tutto si smarrisce Allora abbiamo sentito e avete sentito insieme a noi le parole dell'Avvocato Laura Sgro legale della famiglia Orlandi dopo l'incontro col promotore di giustizia vaticano Alessandro Diddi adesso vi facciamo ascoltare invece quelle che sono state le parole rilasciate alla stampa da Pietro Orlandi dopo quell'incontro che è andato avanti fino a notte fonda perché infatti anche nel recuperare questi contributi dell'Ansa per la Sgro si parla dell'11 aprile per Pietro Orlandi del 12 soltanto perché era stata superata la mezzanotte quindi l'incontro con Pietro Orlandi è stato un vero e proprio incontro fiume sentiamo quello che disse poi all'uscita lo stesso fratello di Emanuele Orlandi io ho potuto verbalizzare tutto quello che avrei voluto verbalizzare tutte le cose di cui ho detto questi giorni in televisione parlando gli argomenti legati alla famosa trattativa a quei documenti che ho in mano riguardo la questione di Londra quindi il trasferimento di Emanuele a Londra le questioni riguardanti la pedofilia gli altissimi peralati che potrebbero essere legati alla questione della pedofilia i famosi screenshot di cui ho sempre parlato quindi ho fatto i nomi delle persone le persone che potrebbero essere collegate devo dire che ho trovato molta disponibilità da parte dei promotori di fare chiarezza il fatto stesso che loro abbiamo detto che ho ricevuto l'incarico da Papa Francesco e dal segretario di Stato di fare chiarezza e al 100% di indagare a 360 gradi e non fare sconti a nessuno e non fare sconti a nessuno vuol dire indagare dal più piccolo al più grande senza nessuna possibilità se ci stanno delle responsabilità anche in alto quelle devono uscire fuori questo è il compito che mi sono prefisso e che ti assicuro che lo porterò avanti certo non è la prima volta che ci incontreremo oggi di giornata storica possiamo già dirlo ora io per la prima volta in 40 anni non sono stato interrogato in maniera così approfondita su argomenti di cui non avevo mai parlato che secondo me sono le cose più importanti avvenute in questi 40 anni certo sarete dovuto parlare di tutto e probabilmente nei prossimi giorni lo farò altro che giornate intere da mattina alla sera però queste sono le cose fondamentali secondo me su cui devono lavorare cioè le cose avvenute alla fine soprattutto questa famosa trattativa di Capaldo di cui ho parlato tantissime volte quella è la cosa secondo me fondamentale perché lì c'è la missione che alcune personalità del Vaticano sono a conoscenza di quanto è avvenuto l'inchiesta è stata aperta il 9 gennaio però ho saputo che già da tantissimo tempo già stanno lavorando hanno interrogato già altre persone non so chi e hanno già una bella documentazione sulle cose che hanno trovato visto che negli anni passati il Vaticano ha sempre detto che non era neanche un pezzo di carta invece evidentemente delle cose sono scelte fuori anche cose fogli impolverati quindi probabilmente fogli risalenti a tanti anni fa la cosa positiva è che ripeto ho visto quantomeno lì oggi pomeriggio adesso ho visto la volontà a fare chiarezza per quanto è possibile cioè a mettere un punto a questa situazione qualunque sia la verità e qualunque sia la responsabilità lei che aspettava da tanti anni come si è sentito oggi? no mi sono sentito bene perché finalmente mi sono potuto sfogare a raccontare le cose che avrei voluto dire da almeno due o tre anni perché noi da due o tre anni con l'avvocato facevamo richiesta per essere ascoltati da chiunque perché avevamo in mano questi elementi nuovi no? l'avevamo detto pure a Paolo Francesco l'altro anno ci aveva pure risposto e quindi secondo me è un momento importante perché a qualcosa deve portare questo perché anche per le cose che ho verbalizzato oggi non possono finire domani ci devono essere per forza delle risposte io mi auguro che quelle persone che ho nominato vengano tutte ascoltate perché da lì può uscire veramente quello che è successo 40 anni fa qualcuno di questi nomi ce le può dire? ma è quello che ho sempre detto ma adesso oddio se c'essi il foglio te li elencherei però che vanno dal cardinal re che per esempio all'epoca stava sempre a casa nostra aveva le relazioni strette con l'avvocato egidio dell'epoca e che quindi sapeva tutti i movimenti tutto quello che accadeva io quando l'ho incontrato qualche anno fa mi disse un po' così sopra il pensiero oddio la storia di Emanuela mi ricordo all'epoca ha letto qualcosa sui giornali quindi per dire dopo tanti anni dirmi una cosa del genere il cardinal re sicuramente è da ascoltare anche perché è una delle persone a cui venivano inviati i famosi cinque fogli che riguardavano Londra il trasferimento di Londra uno dei due era all'epoca Monsignor Re adesso il cardinal re ci sono tantissime altre persone Gianni sicuramente l'ex comandante della gendarmeria che già lui ha fatto delle cose particolari riguardo alla questione della trattativa di Capaldo lui era la persona che si è regata in procura a parlare con Capaldo lui è Alessandrini il suo vice eppure quando noi ancora non conoscevamo il suo nome lui stesso mi diceva dobbiamo cercare di convocare Capaldo in Vaticano per capire da lui come è andata questa trattativa e chi erano quelle persone che ha incontrato in procura e io sto parlando con la persona che era stata in procura con lui quindi Gianni da ascoltare Alessandrini da ascoltare Capaldo da ascoltare Pignatone gli ho detto Pignatone tutta la situazione legata a Pignatone a quell'intercettazione della moglie di Tepedis che accusavano in qualche modo Pignatone quando lo chiamavano procuratore nostro meno male che è arrivato il procuratore nostro ci penserà lui a far tacere Orlandi ha cacciato Capaldo ha assicurato che archivia tutto e poi lui è stato promosso presidente del tribunale Vaticano quindi c'è una serie di persone che che dovrebbero essere ascoltate e mi auguro che loro le possano ascoltare e mi hanno garantito che le ascolteranno e questo era Pietro Orlandi l'11 aprile scorso eravamo già al 12 aprile perché terminò dopo la mezzanotte l'incontro col promotore di giustizia Vaticano Alessandro Diddi voglio un commento da Michelle Maritato e Barbara Fabbroni proprio sulle parole di Pietro Orlandi cominciamo da Michelle anche qui no Michelle quello che dicevi prima è vero tu hai detto è vergognoso che soltanto adesso il Vaticano decide di collaborare e Pietro Orlandi ha detto cose anche abbastanza forti in queste dichiarazioni tirando in ballo il cardinale Re e il capo della gendarmeria Gianni ma diciamo che Pietro nel dire fuori ogni volta di queste dichiarazioni importanti diciamo che non si è mai fatto scruolo non ha mai avuto per la sua lingua ha sempre avuto il grande coraggio di fare nomi e cognomi anche a rischio proprio della sua incolumità e della sua famiglia l'ha detto più volte io lo stimo tantissimo per me è una persona hai anche premiato come a Maria Antonietta Gregori sicuramente come una cara amica Antonietta Gregori sono persone che io adoro quindi non posso che condividere ogni loro parola fino al limite poi insomma ecco di di arrivare ad una verità parlata e una verità approvata su alcune piste su alcune cose posso chiaramente appoggiare totalmente su altre magari ho i miei dubbi però chiaramente come ognuno di noi ha un proprio pensiero quindi Pietro Orlandi secondo me è la chiave di tutto quanto nel senso che è l'unico che può veramente in qualche modo dare una mano fattiva sia alla procura italiana che alla procura di giustizia vaticana per poter comprovare e provare determinate situazioni con fatti con carte con documenti cioè Pietro Orlandi secondo me dovrebbe essere totalmente ogni giorno ascoltato dalla procura per poter arrivare a una soluzione perché conosce a livelli che nessuno di noi nessun esperto nessun addetto ai lavori della nostra amatissima cronaca giudiziaria e cronaca nera può dare e riceve continuamente anche segnalazioni indicazioni alcuni sono mitomani ma lui dice a volte sono persone che si capisce che sanno allora Pietro Orlandi Fabio è una persona che ha fatto della verità una ragione di vita abbiamo fatto più volte manifestazioni insieme a lui nel 22 giugno abbiamo fatto più volte manifestazioni con lui nel giorno del compleanno di Emanuele abbiamo messo mi ricordo come se fosse ieri io, lui Giovanni Lucifora e tanti altri amici tra cui anche Mirella abbiamo messo un cartellone sotto il Vaticano che diceva la verità ci renderà liberi lui questo l'ha sempre detto e lui vive con l'idea di dover trovare la sorella e questo gli fa onore l'avremmo fatto tutti noi se avessimo una sorella scomparsa in questo modo ricordiamoci che Emanuela e che Mirella potrebbero essere ognuno di noi perché quello che è accaduto a loro noi ancora oggi con certezza non lo sappiamo e tutto quello che è accaduto a loro potrebbe accadere accadere ad ognuno di noi ad ognuno dei nostri figli ad ognuno delle nostre mogli ad ognuno delle nostre compagne quindi è nostro dovere civico civile stare vicino a queste persone ed aiutarle nella ricerca della verità perché effettivamente questa verità probabilmente renderà liberi tutti noi da tanti dubbi e renderà liberi tutti noi da poter continuare a credere in una determinata chiesa o meno quindi io lo ringrazio per il suo verato che non solo farà verità per la sorella e per Mirella ma farà verità veramente per la nostra storia e farà verità per gli eventuali prossimi vittime che potrebbero esserci quindi veramente merita veramente un grazie Pietro Orlandi per tutto quello che ha fatto e continua a fare in questi 40 anni così come si sta battendo la vera Leonessa Maria Antonietta Gregori a proposito invece di verità visto che prima la dottoressa Fabbroni potolineava i programmi di storia che puro e conduco come la storia oscura sul radio Cusano Campus ne approfitto tutti i giorni dalle 13 alle 15 o qui a spasso nel tempo alle 20 e 30 del martedì nel preparare questi programmi nello studiare i personaggi ho scoperto una frase di Winston Churchill meravigliosa a proposito della verità soprattutto a proposito del segreto che bisognava tenere per far riuscire nel migliore dei modi il D-Day lo sbarco in Normandia e quindi tutti i depistaggi che misero in piedi per depistare il Terzo Reich i tedeschi e la frase si attaglia benissimo secondo me a queste due storie perché Churchill disse la verità è una cosa talmente importante che bisogna proteggerla con una corazza di menzogne ecco mi sembra che frase questa pronunciata nel 44 da Winston Churchill dottoressa Fabroni sia molto attuale per Mirella Gregori e Emanuele Orlandi credo che calzi a pennello è quello che è stato fatto fino ad oggi e comunque sia voglio dire Pietro Orlandi non è stato mai ascoltato come ha detto anche lui tra l'altro la sua faccia rendeva noto anche voglio dire la come dire la soddisfazione anche di essere stato ascoltato tante ore ma di essere stato ascoltato veramente e non sentito basta che sono due cose molto diverse tant'è che sembra che abbiano proprio tracciato un percorso da fare e da andare proprio a sviscerare e forse l'importanza sta proprio qui al di là comunque di comprendere tutto quello che accadrà che è importante comprenderlo e chissà dove porterà però riuscire finalmente a dare una svolta significativa e a far sì che quelle ombre quelle maschere che diciamo così nascondevano la verità cadano perché siamo arrivati ad un tempo a distanza di 40 anni in cui la verità necessita è importante e fondamentale anche per fare sostanzialmente chiarezza non soltanto rispetto a queste due scomparse ma fare chiarezza anche su tutto quel mondo quel sottobosco che c'è sempre stato e che è sempre stato mascherato finalmente forse è arrivato il tempo in cui nel qui ed ora possiamo tracciare una via completamente nuova e svelare completamente quello che erano le ombre oscure di tutta questa vicenda che ha travolto completamente soprattutto la famiglia Orlandi ma anche la famiglia Gregori travolgendole in questo non sapere che comunque da un lato ha portato anche come dire lo stimolo la motivazione andare alla ricerca della verità nonostante tante porte chiuse però Pietro Orlandi non si è mai arreso così come la sorella di Mirella e forse questa è la grande forza e qui sta anche la grande verità comunque sia la verità resta sempre qualunque questa sia anche se c'è una maschera e c'è una corazza infinita a doverla comunque steggiare o depistarla e credo che questo sia un messaggio significativo soprattutto nel tempo che stiamo vivendo una corazza di menzogne come amava dire l'ex premier britannico l'indomito leone britannico Winston Churchill andiamo verso le conclusioni e ora voglio sentire i nostri due opinionisti sulla commissione parlamentare d'inchiesta commissione parlamentare bicamerale abbiamo un contributo andiamo a sentire cosa disse un po' di giorni fa Francesco Silvestri deputato del Movimento 5 Stelle capogruppo pentastellato alla Camera proprio su questa commissione parlamentare di inchiesta senta per quanto riguarda Pietro Orlandi che abbiamo sentito poco fa lui è molto piucioso perché ritiene che la commissione abbia poteri che non ha mai avuto prima e lui confida molto in voi in questo senso poteri di inchiesta ovviamente i poteri di inchiesta dipendono sempre da come vuoi utilizzarli per questo che prima era questo quello che volevo intendere prima quando dicevo che una volta che la commissione di inchiesta partirà vedremo tramite tutto l'esercizio dei suoi poteri se riusciremo a verificare il comportamento dello Stato italiano in quel periodo ma soprattutto anche le collaborazioni vaticane di quel momento e lì dovremo mantenere una schiena dritta e dovremo fare un ottimo lavoro perché non interpretare con coraggio la commissione di inchiesta che stiamo facendo sull'Orlandi vorrebbe dire voltare la faccia per la seconda volta alle famiglie questo non lo possiamo fare se dopo 40 anni siamo in questa condizione sicuramente qualcuno non ha avuto la schiena dritta ma questo non solo purtroppo nel caso Orlandi o nel caso Gregori ci sono tanti passaggi nella storia del nostro paese dove la politica ovviamente non ha mantenuto la schiena dritta e io credo che mandare un messaggio deludente su questa commissione di inchiesta sarebbe anche una risposta negativa a tutte quelle persone che si svegliano e cercano di lavorare per la giustizia in questo paese e che vogliono sentirsi protetti da uno stato e quindi abbiamo anche questa responsabilità ecco questo mi ricordo era Francesco Silvestri deputato del Movimento 5 Stelle capogruppo pentastellato alla Camera a proposito della commissione parlamentare di inchiesta abbiamo 5 minuti anche meno per le conclusioni comincio da Michel Maritato mi raccomando non entrare a gamba tesa come il tuo solito sulla politica però può arrivare a qualcosa la commissione parlamentare bicamerale inchiesta io prima ho detto purtroppo tutte le precedenti commissioni non hanno portato a nulla o quasi a nulla che possibilità abbiamo ora ma allora Fabio guarda intanto questa commissione l'abbiamo chiesta fortemente io e Mirella Gregori Antonietta anche tu hai questo lapsus anche io l'ho fatto spesso perdonami Antonietta Gregori in questo nel precedente nel precedente governo e non hanno fatto orecchie da mercante successivamente in questo governo è stata invece approvata questa commissione la cosa che mi lascia perpresso ancora anche le parole di questo deputato che continua a dire bisogna mantenere la schiena dritta lo Stato non ha mantenuto la schiena dritta probabilmente forse non è chiaro a questo deputato che la politica non ha mantenuto la schiena dritta la politica ha prestato proprio il fianco a determinate cose e ha prestato il fianco e soprattutto ha prestato la sua esperienza ed ha prestato la nostra nazione e il nostro diritto a persone poco raccomandabili per poter esercitare i propri poteri su gravissime stragi di Stato su gravissime casi gravissimi casi di cronaca nera e di cronaca giudiziale che riguardano in prima persona proprio lo Stato italiano quindi non è che la politica non ha tenuto la schiena dritta la politica è stata proprio complice ed è stata proprio da Portella della Ginestra no potremmo dire dal 1947 dal 1 maggio del 1947 la strage di Portella della Ginestra Bandito Giuliano da lì solo misteri in Italia solo misteri e soprattutto oltre ai misteri proprio veramente una grande collaborazione di alcuni politici e di alcuna politica a queste cose questo rimango basito cioè la grande notizia non è la commissione parlamentare o che il Vaticano ha ascoltato l'avvocato Sgro e Pietro Orlandi la grande notizia è che per 40 anni non l'hanno ascoltato la notizia certo e che per interrompo perché siamo quasi in chiusura devo sentire anche la dottoressa Fabbroni prima di salutarvi dottoressa questa commissione potrà aiutare potrà servire arriverà a qualche risultato beh io me l'auguro io credo che però ogni commissione di inchiesta forse deve essere una commissione a politica e soprattutto guardare soltanto la giustizia e la verità perché altrimenti poi diventano le ulteriori maschere che ci mettiamo e l'uno dice all'altro insomma che sono stati gli altri a non andare avanti e viceversa mentre credo che in queste vicende l'unica cosa da guardare l'unico obiettivo l'unica meta è tirare fuori la verità e guardare seguendo la giustizia seguendo quelle che sono i fatti veri andando a sviscerare anche le cose più in ombra e più nascoste perché credo che sia assolutamente doveroso e nel chiudere con Lorenzo Fantini facciamo vedere la copertina del libro che ha scritto Michel Maritato oltre a quello ovviamente su Pierpaolo Vasolini Aldo Moro una verità compromessa ovviamente mi ha fatto molto piacere la prefazione che ho avuto il piacere appunto di scrivere ricordiamo rapidamente Michel ad Andria il 9 maggio il giorno in cui fu ritrovato 45 anni fa il corpo senza vita di Aldo Moro in via Caetani sì assolutamente avremo il festival delle legalità grazie al sindaco di Andria siamo stati selezionati e scelti per dare al via la grande carmesse di giustizia tra personaggi della giustizia della politica e dello Stato che porteranno avanti questo percorso in tutta Italia nel renderci liberi con la speranza di tante verità su tanti casi che ancora oggi dove ancora oggi vige il mistero come tra cui Aldo Moro quindi ringrazio veramente di cuore il sindaco di Andria ringrazio il festival della legalità ringrazio tutti voi che avete partecipato al libro in particolar modo Martina Paparusso che si è fatta promotrice di questa grande apertura con il nostro libro grazie e io ringrazio voi due grazie a Michelle Maritato e alla dottoressa Barbara Fabbroni ci rivediamo domenica prossima certo grazie Fabio grazie a entrambi e buonanotte grazie naturalmente ai registi regista principale qui nello studio 1 di Cusano Italia TV Lorenzo Fantini per tutti Spider-Man mi piace sottolinearlo e ricordarlo perché nella vesta di Spider-Man fa cose molto buone per i bambini soprattutto e un saluto invece a Matteo Lavoro dalla regia centrale Matteo Lavoro che sta ancora festeggiando lo scudetto del suo Napoli complimenti a tutti i napoletani campioni d'Italia grazie a tutti voi per la cortese e attenzione ci rivediamo domenica prossima con Crimini e Criminologia buonanotte